buongiorno a tutti io sono Maria Pia Congi eh sono qui stamattina insieme ai miei colleghi con i quali appunto ho organizzato abbiamo organizzato insieme questo workshop relativo alla al tema dell'armonizzazione SPA e relativamente ai dati geologici eh noi facciamo parte della rete nazionale dei servizi geologici italiani eh in assieme alla quale sono stati individuati tutta una serie di tavoli tematici fra cui quello diciamo a cui noi afferriamo e di cui facciamo parte è quello delle banche dati, metadati, servizi e armonizzazione SPA per la cartografia regionale e questo è il programma della giornata sono previsti una serie di interventi ehm eh il primo intervento e lascio la parola quindi al mio collega Luca Guerrieri ehm è quello relativo al ruolo delle banche dati nella rete italiana dei servizi geologici quindi diciamo entreremo un pochino più nel cuore del tema che eh individua l'attività che svolgiamo eh ora lascio la parola al mio collega Luca Guerrieri che già ci sono ci sei e chiederei solo di condividi di permettermi di condividere la presentazione ok perfetto si vede benissimo si vede grazie ok allora buongiorno a tutti e grazie Maria Pia grazie a tutti diciamo i responsabili del tavolo io sono di Ispra e mi è stato chiesto di fare una sorta di recap su quello che è stato il percorso e di che è arrivato a costituire la la rete italiana dei servizi geologici che in realtà tuttora eh non ha formalmente questo nome perché eh si chiama tuttora comitato di coordinamento geologico tra stato regione e provincia autonome e poi vedremo bene eh come come sono e qual è la situazione e perché perché il tavolo banche dati appunto che ha organizzato questo workshop è uno di 12 tavoli che è stato istituito nell'ambito di questa rete allora eh tutto parte fondamentalmente da una considerazione di base dal fatto che le competenze eh della geologia eh a livello nazionale e regionale sono veramente distribuite in maniera molto eterogenea senza una eh eh chiara eh logica eh attribuzione diciamo uguale in tutte le regioni questo è sono i risultati di un survey che facevamo qualche anno fa e che è assolutamente incompleto ma che già fa vedere come esistano tante strutture tecniche e appunto come sapete in molte regioni sono più strutture tecniche che si occupano di geologia perché le competenze sono suddivise tra più assessorati e tra più strutture e in alcuni casi ci sono le ARPA poi chiaramente sappiamo c'è una provincia autonome quindi la competenza risiede nelle province quindi c'è una grande eterogeneità però c'è anche una grande forza cioè lo staff di di tutte le persone che ci lavorano che poi metà metà di questi sono sono geologi fondamentalmente e sono ehm sono tanti e quindi è una forza che è è quanto mai fondamentale far dialogare far mettere insieme per costruire un soggetto che abbia anche una sua eh rilevanza eh sia sia la sua autorevolezza da una parte e anche eh sia 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 in rete e quindi faccia squadra e quindi nel momento di scambio di confronto quali sono quelli dei tavoli possa crescere tutto insieme e fare sistema poi d'altra parte ovviamente c'è c'è ispa servizio geologico d'italia attualmente siamo un divertimento e e lo staff più o meno siamo oscilliamo intorno a 140 150 dipendenti di cui più di 100 sono tecnologi ricercatori l'altro aspetto interessante che volevo far vedere è questo questo fatto cioè le quando si parla di geologia si parla di tantissime tematiche diverse e chiaramente i tavoli che sono stati distribuiti non potranno comprendere tutto perché è chiaro che è un è un panorama molto eterogeneo però è interessante vedere anche questi sono sempre risultati di un survey molto eh non completo però insomma è emerso quanto più o meno ci aspettavamo che ci sono alcune tematiche tipo la cartografia il ritiro geologico la geomorfologia insomma che sono ovviamente è considerate praticamente in tutte le regioni in altre parti altri altri temi sono più specifici perché legati a una problematica geologica più localizzata sul territorio ma comunque è interessante vedere come a livello regionale ci sia questa ci sia competenza una competenza molto vasta molto eterogenea su tanti temi è interessante vedere come diciamo il lavoro che si fanno nelle regioni sia diciamo a grandi linee sintetizzabile in questi tre punti da una parte il supporto tecnico alle politiche regionali per quanto riguarda la geologia attività di disseminazione quindi di quello forse di cui parleremo più oggi cioè di condivisione dei dati delle informazioni sulla geologia nel proprio territorio di competenza e poi l'attività di ricerca questo è chi riesce anche a fare l'attività di ricerca tra mille impegni chiaramente sappiamo quanto è complicato però chiaramente sicuramente ne trae beneficio anche per la propria attività quotidiana già dal 2000 è stato istituito questo comitato di coordinamento geologico che aveva l'obiettivo proprio di ricreare una sorta di sistema e tra tra stato quindi e allora c'era c'era l'apat anzi no c'era il servizio geologico e poi l'apat e quindi e quindi questo è chiaramente adesso conflitto nell'ispra e i compiti di questo comitato erano stati definiti da un decreto ministeriale del 2001 tutto ciò che è tuttora è perfettamente attiva non è stato mai abrogato esistente ed è quello che ci dà è e la norma che ci dà diciamo operatività quello che è successo negli anni è che per un po' di anni il comitato si è concentrato soprattutto finché c'erano i finanziamenti del cargo su su quindi su su che poteva essere la diciamo l'organizzazione del del progetto e tra e quindi tra le varie regioni e poi diciamo abbiamo avuto un tanti anni sapete benissimo di in cui il progetto diciamo si è fermato non ha avuto più finanziamenti per fortuna adesso si è riattivato però intanto diciamo dal un po' prima diciamo nel 2018 si è comunque eh si è deciso di di riattivare questo comitato per far cercare di fare delle introdurre delle novità eh tali da poter eh arrivare a questi tre obiettivi fondamentali che sono il primo quello di estendere un po' i compiti eh diciamo non soltanto quindi a a uno o due programmi nazionali ma estendere a tutte le discipline geologiche abbiamo visto quante sono e quindi cercare di considerare un un coordinamento attraverso i tavoli anche su tematiche che magari erano state meno considerate eh in passato ma che oggi sono diventate importanti. Secondo punto è il fatto di estendere eh eh a livello nazionale delle buone pratiche che sono state intraprese da singole regioni che stanno molto avanti eh ed è un dato di fatto proprio per consentire di avere un'omogeneità su eh su sul livello di capacità di ogni singola regione anche per ottimizzare e razionalizzare le risorse che spesso magari poi eh si fanno dei duplicati delle delle azioni che magari potrebbero anche essere eh ottenute eh raggiunte con meno rispende di risorse se in un'ottica di sistema. E l'altro obiettivo che forse è più importante in assoluto per cui so che c'è molta sensibilità anche nelle regioni è quello della omogeneizzazione dei soggetti e delle competenze cioè attraverso la rete cercare di provare a eh a definire da norma diciamo la necessità di che ci sia in ogni regione una sorta di servizio geologico regionale vogliamo chiamarlo come vogliamo però che abbia in tutte le regioni una stessa tipo di di collocazione delle competenze assegnate come ad esempio diciamo un po' meglio avviene per le ARPA eh dove comunque in tutte le regioni esiste un'agenzia ambientale ha più o meno delle delle competenze simili. Allora le azioni per andare per passare dal comitato alla rete sono state quelle di riattivarlo, almeno rifare le nomine, abbiamo dovuto ridesignare i rappresentanti perché chiaramente erano passati alcuni anni anni e è stato soprattutto creato definito un nuovo regolamento che istituisse questo nuovo dell'organizzativo su due livelli. Unico tavolo diciamo ma due livelli, un consiglio con compiti strategici di indirizzo e quindi che ha il compito fondamentale di istituire e di monitorare le attività dei tavoli tematici. Quindi se il consiglio direttivo ha funzione strategica, i tavoli tematici istituiti sono monitorati dal consiglio direttivo ma sono completamente autonomi su quello che sono gli aspetti tecnici e quindi è autorevoli da questo punto di vista. Chiaramente il consiglio ne monitora le attività soltanto per dare eventuali indirizzo. Insomma fondamentalmente ogni singolo tavolo su quella competenza ha assegnata diciamo una sua capacità. E poi esiste una serie tecnica che sta presso ISPRA che fa tutto un lavoro che magari può sembrare oscuro ma vi assicuro è molto impegnativo. Nel corso del tempo sono stati istituiti 12 tavoli tematici, questi sono l'elenco. Come vedete passiamo da temi più classici tipo il CARG, IFI, quindi insomma cartografia, FANE, la geologia operativa in ambito satellitare di Copernicus, poi le attività estrettive, la difesa del suolo, monitoraggio di interventi, RENDIS possiamo associare al tavolo E, il paremono geologico, geositi e quant'altro, rettonica attiva e faglie capaci, il tavolo di oggi, le banche dati, i metali dati, i servizi, le amministrazioni ISPRA, la cartografia regionale, geologia 3D, modellazione 3D, geologia marino-costiera, uso, copertura e consumo di suolo, può sembrare meno geologico ma in realtà ce l'ha comunque un link in cui parliamo di territorio, e SINCOL, cavità naturale antropogeniche, è stato un tavolo risiso più di recente e quindi siamo a 12. Come vedete appunto sono tanti temi molto diversi e su ognuno di questi esiste un coordinatore che per il momento è ISPRA ma non è che è stabilito ex legge, in teoria potrebbe esserci anche, vi ricordo, uno di una regione, rappresentante di una regione che può coordinare un tavolo e una serie di membri designati dalle varie varianti regionali. Ora alcune azioni sono ancora in propria completamento questo processo di formazione presso il Ministero dell'Ambiente e sono sono stati definiti già i testi di un di un decreto ministeriale che recepisse le domeniche di regolamento, era stato pure definito un comma in un DL di Sesto che ne formalizzasse proprio la rete come chiamando RISCHE, questo acronimo curioso che però diciamo sta per Rete Italiane Servizi Geologici, attualmente diciamo si è un po' impantanato tutto diciamo anche a seguito del cambio di governo ma ma diciamo che non c'è nessun motivo ostentativo del Ministero anzi diciamo c'è fin troppo interesse direi nel senso che bisogna stare attenti mantenendo comunque la giusta autonomia rispetto a questi temi. E c'è anche un'azione diciamo di per cercare di mantenere il un link tra un collegamento tra la nostra rete con il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale di cui ISPRA coordina come sapete con le ARPA però a riguardo è stata proposta una rete tematica che presidiasse tutta la geologia nel piano triennale SNPA del numero 21 per i prossimi tre anni e proprio per garantire questa interlocuzione tra i due sistemi per tematiche geologiche di interesse convergente. Diciamo l'SNPA non si occupa soltanto di biologia, soltanto in maniera limitata però ecco diciamo che è necessario comunque garantire un'interlocuzione perché è chiaro che ci sono delle tematiche su cui la geologia è importante e quindi ovvero viceversa a a noi interessa avere un' interlocuzione anche con quanto avviene dentro il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale. Allora passiamo quindi a questo punto a vedere un attimo quello che è il il vostro tavolo, il nostro tavolo insomma, il tavolo che organizza il workshop di oggi quindi banche dati, medali e servizi. Ho semplicemente riportato quelli che sono gli obiettivi. I obiettivi sono di definiti dalla scheda anche stata rappresentata all'inizio e quindi quali erano fondamentalmente da una parte. ISPRA si è resa disponibile a condividere tutta l'esperienza fatta per nelle fasi di attrazione dell'infrastruttura dei dati spaziali. Fare uno stato dell'arte su quello che sono le diverse banche dati presse le amministrazioni regionali. Oggi penso se ne parlerà e ci saranno anche alcuni interventi su questo chiaramente non vorranno prendere la parola a tutti quanti però questo è molto importante avere chiaro delle banche dati di accesso, portali vari eccetera. Una ricognizione della disponibilità immediata o anche futura dei metadati, servizi di consultazione, servizi di download o open data, dati aperti. Questo chiaramente è forse il tema più rilevante al mio giudizio, nel senso che comunque è un tema su cui c'è molto da fare anche come squadra, come rete credo. La definizione di criteri comuni nei standard, e questo è tutto il tema dei standard di condivisione in cui dobbiamo assolutamente cercare di seguire una strada comune, identificare le criticità e poi definire linee guido operative, questo pure sarà fondamentale perché se il tavolo produce queste linee guida potremmo avere un qualcosa che è scritto, scolpito nella pietra e che serve anche per tutti come riferimento. Questo perché? Perché diciamo come questi obiettivi, e questo mi concludo il mio breve intervento, servono proprio a far capire questo concetto, cioè nella rete ci sono, come abbiamo detto, 12 tavoli, di questi il tavolo H, banche dati, medie dati e servizi, è chiaramente un tavolo trasversale a tutti i tavoli, nel senso che ha la necessità di garantire una costante interlocuzione con tutti gli altri tavoli. Ognuno di questi altri tavoli in genere ha comunque una bancarata di riferimento, ha delle informazioni che necessitano di questo lavoro, diciamo, di armonizzazione, di standard e di modalità di esposizione attraverso portale, eccetera. Quindi è quanto mai importante che sia chiaro e quindi, io non so adesso se sono presenti tutti i coordinatori, spero di sì, garantire questa costante interlocuzione per avvenire da entrambe le parti, cioè nel senso da una parte il tavolo H deve recepire le informazioni, l'altra parte deve anche fornire supporto e questo lo chiedo chiaramente, non sicuro che a me le piacere accorna, insomma, a chi lo, a chi ne ha bisogno nei diversi tavoli per quanto riguarda l'organizzazione delle banche dati, sistemi informativi o quant'altro, banche dati, tutto tutto quanto, insomma, quindi il punto, quindi concludo con questo intervento, mettendo in evidenza proprio questa, la natura trasversale di questo tavolo che è l'unico rispetto ad altri che sono chiaramente invece tematici, più o meno monotematici. Ho concluso, Maria Pia, grazie. Se si è sentito e se ci sono domande ditemi, se no, purtroppo non potrò rimanere tutto il tempo che è un altro seminario dei dieci, però. Sì, infatti avevo segnalato la necessità di cominciare anche i virtuali per questo motivo. Mi sembra che in questo momento nella chat non ci siano messaggi, quindi domande e a questo punto andrei avanti, poi se hai modo anche di tornare in qualche modo compagnia. Grazie ancora Luca. Grazie, saluti. Comunque magari poi mi guardo la registrazione anche, visto che ce ne approfitto. Grazie, buon lavoro. Grazie a te, grazie ancora. Quindi a questo punto lascerei la parola, procediamo con lo slot Inspire a che punto siamo, con l'intervento di Carlo Cipolloni, Inspire Stato dell'arte, Best Practice e Novità. Carlo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, se mi permetti di condividere lo schermo. Guarda, credo che adesso tu puoi. Sì, ok. Ok. Dovreste vedere adesso la presentazione. Sì, è attivata, tutto bene. Di nuovo, buongiorno a tutti. Per chi non mi conosce, io sono Carlo Cipolloni, lavoro in Ispra, lato Servizio Informativo Nazionale Ambientale, ma in questo contesto rappresento il responsabile tecnico di Ispire, nonché membro del comitato tecnico presso l'Europa e responsabile del coordinamento di quella che è l'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e ambientale. Cercherò di maniera sintetica di fare un po' lo stato dell'arte e darvi alcuni accenni su alcuni elementi di monitoraggio, di come stiamo andando, di quali potrebbero essere best practice e di novità in ambito Ispire, facendo un focus ovviamente sulla parte geologica. Se parliamo di Ispire, io non so quanto sappiate, ma insomma c'è stato un processo evolutivo. Diciamo che da dicembre 2020 Ispire ha completato tutto il processo implementativo di tipo normativo, se vogliamo, sono entrati in funzione tutta una serie di elementi e con il nuovo programma che poi vi accenderò, 2021-2024, sono cambiati anche un po' alcuni approcci da parte della Commissione Europea. Oggi vedremo alcuni accenni, in particolare faremo un focus, scusatemi, sulla roadmap e sulle scadenze, perché questo è importante ricordarlo, sulle funzionalità del geoportale, in particolare vedremo alcuni aspetti di monitoraggio del geoportale e che cose effettivamente il geoportale permette di consultare in maniera completa e poi ovviamente un accenno, ma in maniera molto sintetica sulla parte di validazione, che è sicuramente quella più importante da un punto di vista di valutazione di quello che è il lavoro di armonizzazione e completamento delle attività che uno porta in avanti. Scadenze. Scadenze, come vedete, sono tutte ormai quasi tutte passate e essenzialmente quelle che riguardano tutta la catena, cioè i metadati, i servizi, i servizi di view, di download e la realizzazione di quello che è l'armonizzazione dei dataset sia nuovi che vecchi. Quando parliamo di dataset significa banca dati, cioè fondamentalmente la banca dati che io ho deve essere riengegnerizzata perché contenga gli elementi richiesti da Ispire e possa essere fruibile anche con il modello standard secondo gli application schema di Ispire o degli modelli estesi ammessi dalla commissione. Aggiungherò più di tanto su questo, nel corso della giornata vedrete alcuni elementi. A livello ovviamente geologico dobbiamo tener conto di due comunità, la parte di application schema che viene direttamente da Ispire e tutto il pacchetto di schemi e di modelli dati che viene invece dallo UGS CGI e quindi parliamo di Earth Resource ML, GeoCML e vocabolari del CGI. Questi sono i riferimenti a livello geologico. Come vedete le scadenze sono state tutte ormai passate, l'ultima era abbastanza ridosso nel senso che è del 2020, quindi siamo nel 2021, dovrebbero esserci tutti i dati armonizzati, questo simulino. L'ultima scadenza che sono quelle previste per la fine di quest'anno sono quello per cui tutti i dataset devono essere, tutti gli spatial dataset devono essere collegati tramite servizi in maniera anche interrogabile, credo che alcuni aspetti pratici li affronti anche nella presentazione successiva Antonio Rotundo da un punto di vista di metadati e di interrogabilità dei metadati con servizi. Noi siamo qui essenzialmente, quindi come vedete c'è molto lavoro da fare perché molte delle cose ancora non funzionano. Molte delle cose non funzionano e poi lo vedremo quando ci ritornerò sugli aspetti del geoportale. È opportuno però fare un, per capire anche come muoverci a livello nazionale, fare un piccolo focus a livello nazionale. A livello nazionale non so quanti di voi sanno, esiste una consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale, nota come CNITA, in cui siedono tutte le regioni, gli organi cartografici, quasi tutti i ministeri principali, alcune autorità locali in particolare siedono una rappresentanza delle province, dei comuni, i dianci in questo senso, e poi una serie di altri enti considerati, tipo Istat, considerati comunque prioritarie a livello nazionale. La consulta è un organo strategico di governo, all'interno della consulta ci sono delle sezioni tecniche che quindi svolgono l'attività tecnica di implementazione della direttiva. Il coordinamento tecnico è in capo a ISPRA, in particolare io coordino la struttura di coordinamento con il tavolo di cooperazione che è la sezione 1, ora vedremo velocemente. Agito ovviamente ha un ruolo determinante perché definisce molte delle regole a livello di metadati e dati a livello nazionale. A livello operativo abbiamo tre elementi previsti dalla normativa, dal decreto legislativo di ricepimento per diretti di SPAR che è il 32 del 2010, ovvero il geoportale nazionale, la piattaforma SINA e il catalogo nazionale di metadati, ovvero il repertorio nazionale di dati territoriari, NTT. Come dicevo ci sono delle sezioni tecniche, le sezioni tecniche hanno il ruolo di in qualche modo fare da collante nelle varie amministrazioni e definire alcuni degli aspetti importanti nell'implementazione o nella realizzazione di quelli che sono i vari aspetti previsti dalla direttiva e quindi metadati, dati, servizi, condivisione dei dati e ovviamente poi c'è un aspetto più di reportistica che aspetta ISPRA, un qualento strutturale di coordinamento, in qualche modo noi facciamo monitoraggio e la validazione, cioè siamo noi che poi in qualche modo andiamo a verificare che quanto dichiarato da un'amministrazione sia effettivamente vero, anche perché poi siamo noi che ne rispondiamo ai fini del monitoraggio verso la Commissione Europea su quello che sono gli aspetti di implementazione nazionale. Ovviamente gli spreaggi danno il ruolo anche di definire delle linee, delle guide linee tecniche su come implementarlo a livello nazionale anche in considerazione dei standard nazionali. Sul sistema di datazione non mi dilungo, ovviamente Agit che ne risponde e poi vedremo Antonio cosa si interessa al rispetto. Quando parliamo di infrastruttura nazionale per informazione territoriale ambientale anche nota come NIT, ma essenzialmente parliamo di questo schema, ovvero quello che dicevo, l'RNDT, il geoportale, la piattaforma, il sistema di registri che serve in qualche modo a gestire e a integrare le risorse, le varie risorse come i vocabolari, come anche eventuali altre nomenclature o piattaforme disponibili, le piattaforme di monitoraggio e validazione dei servizi che appunto gestisce ISPRA e poi ovviamente parte essenziale tutti i data set e servizi che arrivano sia dagli antilocali che dalle amministrazioni centrali. Ritorniamo adesso a quello che è il monitoraggio e quindi il ruolo anche del geoportale ISPIRE europeo. Io qui vi presento un po' un focus sui cinque diciamo temi più geologici, potrei dilungarmi anche sugli altri, ma diciamo in questo senso forse non era il caso. Come vedete a livello nazionale i metadati presenti nel geoportale di ISPIRE, quindi anche in quello nazionale se vogliamo, sulla geologia, cioè sul tema in geologia e quindi parliamo di geologia, geofisica e idrogeologia sono oltre 670, però peccato che di questi pochissimi siano accessibili. Per la Commissione europea accessibile significa che è disponibile non il servizio, ma il servizio di download. Se il servizio download non è accessibile, cioè se non c'è un servizio download operativo per loro, cioè per la commissione, il dataset non è accessibile. Su questo spendo due parole poi correremo velocemente su quello che possono essere i vari aspetti dei vari temi. È importante ricordare che i servizi di visualizzazione sono obbligatori per tutti i dataset nazionali e regionali. Non c'è nessun dataset che è escluso dal servizio di visualizzazione, perché per legge sono obbligatori e aperti. Sul servizio di download devono essere comunque accessibili i servizi di download. Lì dove vi fossero degli elementi ostativi per cui i servizi a pagamento o comunque ci sono delle riservatezze di tipo nazionale, il servizio deve essere disponibile ma sotto password. Però ci deve essere. Qualora non c'è, questo rappresenta in qualche modo un'infrazione al regolamento. Allo stesso modo come vedete, se andiamo a vedere, mentre c'è una ricchezza di dati geologici, cioè a livello regionale 187 dataset, 161 nazionali, più altri che arrivano da altri amministrazioni, poi andrebbe fatto una cernita esattamente di cosa c'è dentro. A livello di risorse minerarie non abbiamo moltissimi dataset, perché ne abbiamo soltanto 40 a livello nazionale, di cui venti regionali e due nazionali e altri sparsi. E qui ancora peggio, nel senso che anche qui i servizi di download e visualizzazione sono piuttosto scarsi. La situazione, da un punto di vista di ricchezza dei dataset sulle natural risk zone, cioè sulle aree di pericolosità e rischi, ovviamente è molto più ricca. Qui entra in gioco anche sicuramente protezione civile e altri aspetti che in questi dataset possono essere considerati di vulnerabilità o di rischio, però se ci concentriamo a livello dataset nazionale o di dataset regionali, ne sono moltissimi e l'accessibilità di questi dati è ancora meno dei due temi precedenti. quarto elemento sono i dati relativi al suolo, ovviamente non c'è una grandissima ricchezza anche in questi, qui sicuramente la situazione a livello di competenze è anche molto più disarticolata che non nei primi temi, ma vedete che a livello generale, mentre c'è una certa disponibilità di questi dati a livello regionale, non ci sono a livello nazionale, comunque anche qui c'è un po' una situazione di stallo. Ultimo elemento considerato in quello che normalmente veniva chiamato Earth Science Cluster, cioè il cluster delle scienze della Terra, erano la parte di dati relativi alle risorse energetiche. Ora qui dentro non ci finiscono solo i dati classicamente gestiti dai servizi geologici tipo l'esplorazioni petrolifere e la geotermia, ci finiscono ovviamente anche i dati relativi ai campi eolici, ai campi fotovoltaici e via dicendo. La situazione è estremamente frammentata, non c'è quasi accessibilità a questi dati, sono molto pochi e qui sicuramente c'è un quadro che andrebbe ricostruito anche a livello nazionale ed è uno dei lavori che fa anche la sezione 3 dell'ACNITA, cioè la sezione 3 che si occupa delle specifiche dati, sta lavorando per capire anche quali sono i soggetti che in ognuno di questi temi in qualche modo hanno competenze, hanno disponibilità di dati a livello locale o nazionale, in modo da poter poi costruire un quadro sinergico di quello che possono essere le informazioni tematiche. Ci spostiamo a livello nazionale, questo è un report estratto dall'RNDP, questo io ho incluso qualche dataset in più, cioè qualche tema in più in senso che in maniera più ampia ho portato dentro anche le coperture del suolo perché comunque è un tema trattato a livello geologico, gli impianti di monitoraggio perché negli impianti di monitoraggio per esempio ci ricadono a pieno titolo tutte le reti di monitoraggio delle qualità delle acque, le regioni marine perché nelle regioni marine ricade tutta la caratterizzazione geomorfologica e comunque della costa e ovviamente tutte le altre cinque tematiche già descritte a livello europeo. Come vedete la situazione anche qui non è molto articolata e molto ricca, ho fatto solo un resoconto a livello regionale aggregando anche i vari enti che potrebbero avere contribuito a livello regionale, come vedete non tutte le regioni ha una rappresentatività, molte hanno i dataset disponibili nei vari temi e solo poche hanno messo a disposizione una serie di dataset, cioè di metatati che descrivono i dataset e gli servizi adesso correlati per questi temi geologici. Quindi qui c'è sicuramente un'azione che va fatta di arricchimento e miglioramento della comunicazione probabilmente anche con le strutture che si occupano degli aspetti dei metatati e dei servizi a livello regionale. Passiamo un po' a vedere cosa c'è di nuovo, quali sono un po' le cose in tinere che si stanno facendo a livello europeo su Inspire. Ovviamente, come capite, il nuovo programma è molto incentrato sul New Green Deal. Ci sono tutti i fondi del Recovery Fund di lungo su questo, ma è ovvio che già da un anno e mezzo all'inizio della strategia sul New Green Deal e sul Green Data Space, che è la strategia della Commissione Europea per i dati a supporto del New Green Deal, il nuovo programma è fortemente incentrato su questi aspetti. Quali sono gli obiettivi? Definire i set di dati e i temi che possono essere importanti per le politiche ambientali, per un miglioramento anche della qualità ambientale e di sostenibilità ambientale a livello europeo. Lo sviluppo di un piano di implementazione che massimizzi la disponibilità, garantendo interoperabilità e integrazione dei dati e creando una copertura spaziale per un'europea. Capite bene che qui c'è tanto da lavorare perché ovviamente non tutti i temi hanno una copertura continua a livello europeo. Inoltre, come vi dicevo, il problema per la Commissione è che la disponibilità, cioè l'accessibilità al dato vuol dire avere a disposizione dei servizi di download che, come avete visto, per l'Italia sono molto pochi, ma non è che gli altri paesi eccellano, nel senso che sono solo pochi paesi che hanno messo a disposizione diversi servizi di download. Semplificare e integrare i requisiti tecnici. Sicuramente ci si è resi conto che ci sono troppe complessità nel sistema, spesso difficilmente implementabili, perché finché si parla di implementazione di aspetti tecnici è una configurazione, ma quando parliamo di configurazioni che riguardano anche i dati, ovviamente l'aspetto è piuttosto complesso e quindi si sta lavorando anche un processo di semplificazione e di razionalizzazione. e poi ovviamente un po' di transizione verso un ecosistema digitale per l'ambiente della sostenibilità e quindi per supportare appieno quello che sono le strategie sui dati ambientali, quindi il Green Data Space e il Green Data for All. Il Green Data for All è l'iniziativa per rendere i dati ambientali accessibili a tutti e qui poi farò un focus finale. Quelle che vedete sono le tre aree effettivamente di lavoro e quindi il nuovo programma che poi vi farò vedere lavora su queste tre aree. Ovviamente siamo in una fase di transizione, il vecchio programma si è chiuso nel 2020, come dicevo alcune task sono ancora in etinere. Sicuramente c'è un'attività che proseguirà su quello che è la lista dei dataset prioritari, soprattutto a funzione del reporting ambientale. C'è ancora un'attività che prosegue sull'arricchimento dell'accessibilità tramite servizi di networking e che in qualche modo si trasferisce anche a quel concetto di semplificazione del nuovo programma. C'è un'attività di monitoraggio che più o meno è quasi conclusa perché con il monitoraggio 2020 si è passati a una nuova fase di monitoraggio e di reporting per ogni stato membro e poi ovviamente c'è un'attività che si sta concludendo che era quella del thematic cluster o del community forum che purtroppo però è quella che è stato da gennaio di quest'anno è stata decisa di non implementare più, cioè ovvero l'Espire community forum non è più una piattaforma mantenuta dalla Commissione Europea. Quanto era stato realizzato fino a dicembre 2020 verrà mantenuto come come repository ma di fatto la piattaforma non viene implementata. Mentre c'è un'attività che continua e che era si era avviata molto prima di di implementazione le specifiche di validazione sui data se continua ed è in progress. Continua spostando tutto su un aspetto open e quindi tutto quello che è stato viene implementato è disponibile tramite il GitHub che la commissione ha messo in piedi sull'Espire validation conformity test. Qui ovviamente si può accedere a ogni data set vedere cosa si sta implementando, quali sistemi di validazione sono stati già implementati o quali sono in corsi di implementazione e ovviamente un importante ruolo anche della comunità è quello di testarli e capire quali sono i limiti anche del modello. Cioè io per poter capire se il modello ha dei limiti, se il modello va bene o se i miei dati in qualche modo nell'armonizzazione poi sono o non sono validi debbo assolutamente in qualche modo fare un sistema, confrontarmi con questo sistema di validazione. Per quanto riguarda le attività nuove, come dicevo le attività nuove sono... scusate eh... Pronto. Non ti posso rispondere. Che c'è? Sì, sì vabbè, ciao. Scusate. Dicevo, quali sono le nuove attività del nuovo programma? Come dicevo è una è più incentrata sul costruire un ecosistema digitale per la sostenibilità, quindi c'è tutta un'attività di integrazione dei dati anche rispetto ad alcune tematiche del New Green Deal. C'è tutta un'azione sull'implementazione comune, come vedete queste sono le... in qualche modo riprendono quelle tre aree che vi avevo voluto vedere. C'è un'azione sui dataset prioritari, sulla nuova roadmap di implementazione delle prioritarie anche in combinazione con l'Agenzia Ambientale Europea per quello che è il reporting ambientale. Mi importa... il concetto che dicevo di semplificazione ovviamente ci sono anche le estensioni dei modelli dati, le estensioni dei vocabolari, le validazioni di nuovi modi di codificare o di rendere disponibili dati, cioè si sta lavorando perché i servizi non siano solo i WMS e WFS classici, ma che perché ci siano anche in base nei nuovi standard la possibilità di rendere disponibili i dataset in formato ISPIRE anche tramite Geopackage, Open Fisher, API e quindi altre strutture di questo tempo. Ovviamente l'ultima e più importante era quella del Green Data for All. Green Data for All che poi vedremo ha a che fare con un aspetto che richiamerò subito dopo. Questo è per farvi vedere che anche in questo caso per ogni attività in qualche modo è stato costruito un reposito di SUGDITAP da parte della Commissione Europea su cui in maniera aperta si lavora e ci si può integrare. L'ultimo aspetto che dicevo che era quello del Green Data for All ha anche degli aspetti sugli Open Data. L'ha citato Luca in qualche modo l'aspetto degli Open Data come elemento importante su cui lavorare in maniera combinata. Se voi leggete ovviamente la direttiva 1024 del 2019 che è la cosiddetta nuova direttiva PSI ma anche Open Data, fa un chiaro riferimento a quelli che sono gli high value dataset, cioè i dataset di alto valore, quelli strategici a livello europeo, a livello nazionale. Ci sono dei tavoli nazionali e europei che stanno lavorando su questo ma la Commissione ha anche fatto lei una valutazione almeno per quello che è il set dei dati dell'osservazione da terra e dell'ambiente che in qualche modo interessa a tutti. E se andiamo a vedere, con questo poi mi concludo, sui dati prioritari anche per i rapporti ambientali ma anche per il Green Data Space e per l'iniziativa che dicevo di Green Data for All, sono stati identificati una serie di dataset, cioè di temi e quindi di dataset che ricascano i temi in quello che è l'osservazione da terra e di quello che sono invece i dati ambientali cosiddetti in maniera più ampia possibile che poi vanno presi. Come vedete la geologia, le sea region, il suolo, gli hazard naturali e ovviamente le attività ambientali, dicevo anche quello delle acque in questo momento, sono sicuramente tutti i set considerati ad alto valore. Che cosa significa? Che se sono considerati ad alto valore per la Commissione questi devono essere resi pubblici, aperti e senza costo e quindi ovviamente qui c'è un'attività nazionale che va portata avanti anche per garantire o comunque far sì che l'Italia non sia impreparata nel fornire questo tipo di dataset nel breve periodo. E con questo ho concluso. Grazie, grazie Mirle, Carlo, per questo interessante intervento che insomma ci mostra anche quello che sarà il percorso futuro da affrontare. Senti, ti faccio solo una domanda al volo che è arrivata in chat perché evidentemente nei dati che hai mostrato la provincia donna di Tento segnala che loro in realtà possiedono tutti i dataset relative alla carta di sintesi della pericolosità alle carte di pericolosità che non risultano eventualmente nello schema che avevi proposto. Allora, sì sì, cerco di essere chiaro. Il monitoraggio io lo faccio su quanto presente nel repertorio nazionale dei dati territoriali. Ora, dati territoriali. Nel repertorio nazionale dati territoriali. Ci sono nel repertorio nel giocatalogo. Evidentemente devo fare un check come mai non siano non siano figurati. Praticamente ci sono tutti i tematismi sotto il nome di penalità e pericolosità di tutte le varie voci, come c'è presente anche la carta di sintesi, nella carta delle risorse idriche. Sono tutti, però ovviamente ci sono i tematismi, ma se uno scrive carta risorse idriche, li vengono fuori tutti i tematismi che la compongono. Perfetto, sicuramente non metto in dubbio che ci siano. Nel monitoraggio io vado per temi SPAE, quindi il problema è se nel metadato non è stato in qualche modo elencato quel tema SPAE, probabilmente non compare. Questo che significa che non è detto che non ci siano. I dataset probabilmente ci sono, ma non sono tra virgolette classificati secondo quel tema SPAE e quindi sono sfuggiti a questo processo di monitoraggio. Ovviamente io vado per parole chiave anche perché, come sapete nel catalogo di Antonio ci sono oltre 24.000 metadati. Se non andassi per parole chiave sarebbe impossibile fare quindi probabilmente legato al fatto che non hanno quel tag ma ne hanno un altro e questo basta verificarlo. Non metto in dubbio. Grazie, allora facciamo anche questo tipo di verifica poi successivamente. Grazie Carlo, grazie ancora, ringrazio anche la domanda. Sono zone a rischio naturale, per cui mi sembra che la classificazione sia corretta. Farò una verifica comunque. Grazie per la segnalazione. Grazie. Prego. Quindi procederei a questo punto con l'intervento di Antonio Roturno, Rotundo dell'Agid, che invece farà una breve panoramica sulla metadati e accessibilità dei dati attraverso i servizi di rete e istruzioni di pratiche. Grazie Antonio per la loro accettazione. Condivido lo schermo. Grazie mille. Vedete? Sì, perfettamente. Ok. Allora, buongiorno a tutti, sono Antonio Rotundo di Agid, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dove mi occupo del repertorio nazionale dei dati territoriali, che è il catalogo nazionale dei metadati in cui tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a documentare dati e servizi territoriali di cui sono titolari. E poi, come diceva Carlo Cipolloni, è il catalogo di riferimento per il geoportale Inspire e per il monitoraggio Inspire. Nella presentazione di Carlo che mi ha preceduto, abbiamo visto attraverso i numeri che lui ha raccontato che ci sono delle criticità a livello di accessibilità dei dati attraverso i servizi, che sono evidenziati appunto nei bassi numeri che si riferiscono ai servizi di download e di visualizzazione. Questo non è sempre dovuto alla mancata disponibilità di servizi, ma ha un'errata documentazione sia attraverso i metadati che attraverso le gate capabilities dei servizi, che quindi non sono coerenti con le linee guida Inspire e con le indicazioni che Inspire ha dato per garantire un corretto collegamento tra dati e servizi. Questa presentazione quindi volta a focalizzarsi, a evidenziare alcuni punti di attenzione che bisogna tenere in forte considerazione proprio per migliorare questa accessibilità. Dicevo che Agide si occupa del repertorio nazionale dei dati territoriali e in particolare l'attività di Agide è incentrata su due linee di azioni. Da una parte è quello di rendere conoscibili, diciamo, tutti i dati e i servizi che sono documentati dalle pubbliche amministrazioni che siano disponibili per un numero di utenti e quindi un pubblico sempre più vasto e diversificato e questo come vedremo velocemente nelle prime slide lo fa attraverso diversi strumenti. L'altra linea di azione è quella di supportare le amministrazioni per la corretta documentazione di questi dati e di questi servizi, azione che è necessaria proprio per abilitare la prima, perché è chiaro che più i metadati sono di qualità e documentati secondo standard e regole condivise, più l'utente è facilitato a cercare e quindi trovare e identificare i dati e i servizi di cui ha bisogno. Il repertorio offre diverse funzionalità per la ricerca, quindi rivolte a tutti gli utenti e recentemente sono elencati, diciamo, nella slide per cui si parla dalla, si parte dalla ricerca testuale, dalla ricerca dettagliata che è basata sui criteri standard, quindi parole chiave, ente responsabile, tipologia di risorsa informativa, quindi sei dati, servizi, data setto serie, eccetera. C'è una ricerca per classificazioni predefiniti, banalmente il tema Inspire che è quello che, diciamo, è anche l'interesse in questo workshop, ma anche attraverso i cluster tematici che sono quei raggruppamenti che Inspire ha fatto in base, sulla base poi dei temi definiti nella direttiva. Recentemente abbiamo aggiunto anche ulteriori funzionalità alla ricerca e l'accesso ai metadati che sono le API REST, ovviamente il CSV che è quello, il servizio alla base dell'interoperabilità tra repertorio e geoportale, Inspire, ma anche tra repertorio e cataloghi locali, quindi regionali, di altre amministrazioni centrali e locali. E poi, come vedremo velocemente, è stata implementata un'azione, anche questa, nell'ambito di una analogazione a livello Inspire, per rendere disponibili i metadati e quindi renderli conoscibili attraverso i motori di ricerca, perché poi, ovviamente, chi è esperto e chi si occupa della materia, diciamo, può conoscere dove andare a cercare i dati perché sa dell'esistenza, diciamo, del catalogo nazionale o di quello regionale o di quello Inspire. Tutti gli altri utenti che hanno necessità di conoscere quali dati sono disponibili, ma non sanno di questi strumenti che vengono messi a disposizione, in genere si rivolgono più facilmente a motori di ricerca. Una ricerca che voglio evidenziare, una funzionalità di ricerca che voglio evidenziare, oltre a quelle classiche, vi dicevo prima, è quella che abbiamo aggiunto nell'ultima versione, la ricerca dei dataset prioritari, che, come diceva Carlo, sono quei dataset che Inspire ha individuato essere rilevanti e pertinenti nella reportistica ambientale, quindi collegati a specifiche direttive ambientali, e c'è anche la possibilità di fare una ricerca sui dati aperti, perché poi il repertorio nazionale è un catalogo che include tutte le tipologie dei dati, quindi siano aperti che non aperti. C'è questa funzionalità che si basa poi su una classificazione definita sempre a livello europeo, per individuare subito quali sono, nell'ambito delle risorse documentate nel repertorio, quali sono quelli aperti. Un ulteriore strumento, un'ulteriore funzionalità è quella che i dati che sono anche aperti e sono documentati nel repertorio sono resi disponibili automaticamente, quindi senza nessun effort aggiuntivo per l'amministrazione, anche nel catalogo nazionale, nel portale nazionale dei dati aperti. Come sapete esiste quest'altro portale nazionale, che raccoglie diciamo tutta la documentazione dei dati aperti di tutte le pubbliche amministrazioni, per cui per evitare di aumentare l'effort, l'onere diciamo a carico delle amministrazioni, nel caso un dato territoriale è anche aperto, c'è questo automatismo nella disponibilità dei dati territoriali sia sul repertorio che su dati.gov.it. Questo si basa su una specifica e su alcuni tool sviluppati sempre a livello europeo che si chiama con l'acronimo GeoDICAT-AP, che poi abbiamo esteso a livello nazionale. E infine per la ricerca, come vi dicevo, potete trovare tutti i dati documentati nel repertorio anche attraverso Google Dataset Search, che è la piattaforma di Google dedicata alla ricerca dei dataset. Le regole alla presentazione dei metadati sono quelle definite nel decreto del 2011, che è stato aggiornato nel 2020, ma che poi verrà approfondito diciamo anche con alcune indicazioni sull'ITER eseguito nelle presentazioni successive. Quindi quello a cui la documentazione a cui dobbiamo fare riferimento sono, dal punto di vista normativo, le linee guida che sono in corso di adozione secondo l'ITER prevista dal codice dell'amministrazione digitale. Dal punto di vista operativo è la guida per la compilazione dei metadati, documenti che comunque trovate sul sito del repertorio. Ovviamente sia linee guida che guida operative sono allineate conformi alle regole più recenti di Inspire. C'è un altro documento che può essere utile e che offre alcuni spunti per migliorare appunto l'accessibilità e che poi appunto, in questo documento, sono evidenziati in questa presentazione, è un documento che abbiamo prodotto e definito, pubblicato ormai più di un anno e mezzo fa, in collaborazione proprio con Ispra, e che evidenzia quelle criticità che accennava Carlo e ovviamente offre le soluzioni che adesso vediamo nel dettaglio. quindi adesso in poi vado nel merito, nel dettaglio di alcuni punti, come vi dicevo, che bisogna tenere presenti quando si documentano dataset e servizi territoriali. Il primo punto da evidenziare è, diciamo, la possibilità di documentare i metadati con testo libero o con valori presi da vocabolati controllati. È chiaro che è sempre da preferire la seconda opzione, ovviamente quando esistono vocabolari controllati, registri, tassonomie che sono definite in modo standard e comune, preferibilmente a livello europeo. Già nello standard di ISO 1915, che poi è lo standard alla base dei metadati, esistono alcune liste di codice per cui alcuni elementi dei metadati obbligatoriamente devono essere documentati attraverso l'utilizzo di queste liste di codice. Per altri elementi di metadati che per ISO sono a testo libero, in alcuni casi Inspire suggerisce di utilizzare alcuni vocabolari pubblicati nel sistema di registri Inspire o a livello nazionale. Esistono comunque delle estensioni a questi registri europei che si possono utilizzare a livello nazionale e che sono pubblicati nel sistema di registri Inspire Italia, che citava anche Carlo nella sua presentazione. nella slide vedete due esempi, a sinistra è praticamente un tema Inspire indicato come testo libero, nell'esempio a destra invece sono i due temi Inspire indicati con alcuni codici tratti dal registro Inspire. È chiaro che nel primo caso, essendo testo libero, si possono creare dei disallineamenti effetti allo standard. Pensate per esempio al formato, prendiamo shapefile, un'amministrazione scrivesse HP, un'altra shape, un'altra shapefile, e quindi l'utente quando va a fare ricerca in base, per esempio, al formato, ovviamente può capitare che non riesca a trovare, a identificare tutti i dati che poi rispondono a quel criterio di ricerca. Quando si usa invece un codice, è chiaro che il codice è sempre univoco ed è persistente, per cui la ricerca anche in questo caso viene facilitata. È un ulteriore, diciamo, vantaggio dell'utilizzo di codici presi dai vocabolari controllati e anche relativa al multilinguismo, nel senso che quasi tutti, a parte qualche rara eccezione, i metadati presenti nel catalogo nazionale italiano, sono documentati appunto in italiano. Quando c'è un codice, un elemento di metadato che è documentato attraverso un codice, ovviamente se un utente che non è di un altro stato membro che va a ricercare questi dati attraverso il codice, andando sul registro, può verificare effettivamente la corrispondente etichetta, definizione e versione nella propria lingua. Il secondo punto è che ovviamente dal 2020 in poi la versione dello standard a cui bisogna fare il riferimento è appunto la 2.0 delle linee guida RNRT che vi citavo all'inizio e che quindi va documentata nei metadati. Come vediamo poi nelle slide successive, c'è anche uno strumento per chi ha già documentato metadati conformi all'inizio dello standard RNRT, c'è uno strumento di trasformarli e quindi di allinearli a questa nuova versione. Un altro punto che potrebbe sembrare banale, ma che sulla base delle esperienze dei dati documentati nel repertorio non lo è, è quello del nome dell'ente responsabile del dato e del servizio quindi e della titolarità del dato stesso. Titolarità significa che il dato, cioè l'amministrazione, deve documentare nel repertorio solo i dati e i servizi di cui è titolare, per cui se l'amministrazione utilizza un certo dato nelle proprie procedure amministrative, un dato di cui non ha la titolarità, ma che è la titolarità di un'altra amministrazione, solo per il fatto che l'utilizza nei propri processi amministrativi e istituzionali, non deve documentarlo nel repertorio, perché a documentarlo ci deve pensare all'amministrazione di quel titolare. Esempi di dati che vengono documentati nonostante non se ne abbia la titolarità, sono per esempio i dati catastali che sono di titolarità, diciamo, dell'agenzia delle entrate, ma che vengono documentate anche da altre amministrazioni, oppure le ortofoto, l'agea, oppure i dati istat. Questi sono i classici esempi dei dati che vengono documentati da amministrazioni che non sono titolari di questi dati. La seconda attenzione che bisogna prestare è sul nome dell'organizzazione indicata come proprietario. Se avete dimestichezza con i metadati, sapete che nei metadati si possono indicare diverse organizzazioni con diversi ruoli. Uno di questi ruoli serve per indicare l'amministrazione che ha la titolarità di quel dato. In questo caso, quello che viene richiesto è di utilizzare il nome ufficiale dell'ente, senza specificare i singoli uffici, i singoli dipartimenti, i singoli servizi che si occupano di quel dato. Questo perché, siccome il catalogo nazionale, ai fini della ricerca, si basa sul nome dell'amministrazione che è stata registrata nell'indice delle pubbliche amministrazioni, se come ente titolare viene indicato e dettagliato l'ufficio specifico dell'amministrazione, allora un utente che va a ricercare quel dato non lo troverà perché, ripeto, il valore del nome dell'organizzazione che è presente nei metadati è il nome ufficiale presente in IPA nel limite delle pubbliche amministrazioni deve coincidere. Ovviamente, siccome questo metadato ha molteplicità n, poi si possono dettagliare tutti gli uffici, i servizi, i dipartimenti, eccetera, coinvolti nel ciclo di produzione di quel dato con tutti gli altri ruoli disponibili nella code list specifica di ISO 1915. Nella presentazione di Carlo abbiamo visto che faceva distinzione tra dati regionali e dati regionali. Questo fa riferimento alla decisione della Commissione Europea relativa al monitor Regi Inspire che nell'ultima versione richiede di indicare nei metadati se il dato che si sta descrivendo è di copertura, cioè riguarda un territorio regionale oppure è a livello, e quindi ha una copertura a livello nazionale. Questo si fa inserendo una parola chiave DOC che è banalmente regionale nel caso, oppure regional in inglese, se si utilizza l'inglese per i dati regionali e nazionale per i dati appunto nazionali. Nel registro che riguarda la copertura dei dati in realtà ci sono altri valori, per esempio c'è locale, c'è globale, c'è europeo, per cui è ovvio che tutti gli altri dati che magari non contribuiscono al calcolo di questi indicatori, ma contribuiscono al calcolo di tutti gli altri indicatori, possono utilizzare gli altri valori del vocabolario, quindi del registro, per indicare il livello di copertura del dato. Anche in questo caso, ovviamente, la parola chiave può essere, come si vede, indicata all'utilizzo di un'etichetta e di un codice presente in un registro INSPIRE, e ovviamente si deve indicare il registro, il tesaurus di riferimento per questa parola chiave con la relativa data di pubblicazione. Questo è un discorso molto importante per tutto quello che si diceva nelle presentazioni precedenti e perché, come vi dicevo, c'è questa sincronizzazione automatica tra repertorio nazionale e portale nazionale dei dati aperti. È ovvio che per far sì che i dati territoriali, che sono anche dati aperti, vengano pubblicati, resi disponibili nel portale dei dati aperti, bisogna aver definito un criterio sulla base del quale identificare quali sono questi dati aperti. I criteri che sono stati identificati, ma questo lo abbiamo visto anche a livello europeo, che utilizzano poi questi due criteri nella maggior parte dei casi, sono sicuramente la presenza di una licenza aperta appropriata, perché, come sapete, un dato è aperto se viene associata una licenza aperta. Le linee guida nazionali sulla valorizzazione del patrimonio pubblico, che sono definite sempre da Agib, raccomandano di utilizzare la CC BY 4.0. In aggiunta a questo, viene richiesto nei metadati di aggiungere una parola chiave ad hoc, in modo tale da rafforzare, diciamo così, questa identificazione dei dati aperti, che è banalmente open data. sulla base della direttiva che citava Carlo, quindi la direttiva sui dati aperti, sugli open data, che è in corso di ricepimento in Italia, e fa un recepimento in Italia. La direttiva dà particolare importanza agli high value data, che citava Carlo, ma dà anche importanza ai cosiddetti dati dinamici, per cui, nel caso di dati dinamici, la direttiva richiede, per esempio, la pubblicazione attraverso API, di renderli disponibili sempre con open data, e così via. Proprio per questa tipologia di dati dinamici, nel piano triennale ICT delle pubbliche amministrazioni è stata inserita un'azione ad hoc, che comunque ovviamente non riguarda solo i dati territoriali, che è quella di aumentare la disponibilità di questa tipologia di dati dinamici. Per cui, anche nel reperto, la visione che aggiungeremo nella prossima versione, nella revisione, diciamo, della guida operativa che faremo, si richiede di, nel caso di dati aperti e che siano dinamici, di indicare una parola chiave appropriata in modo da identificarli e in modo da poi, che possano contribuire correttamente al calcolo degli indicatori che sono previsti nel piano triennale. Parlavamo di dataset prioritari, che, ripeto, sono quei dataset individuati nell'ambito INSPIRE che contribuiscono, diciamo, e che servono per la reportistica ambientale, quindi legate alle diverse direttive ambientali. INSPIRE ha identificato questi domini tematici che vedete nella slide e per identificare quali sono quali dei dati territoriali documentati nel catalogo sono dataset prioritari, anche in questo caso bisogna inserire una parola chiave ad hoc che può essere derivata da un specifico registro pubblicato appunto da INSPIRE stesso che vedete, di cui vedete l'URL nella slide. e anche in questo caso bisogna indicare correttamente il tesaurus, quindi il registro da cui questa parola chiave è la data di pubblicazione. Come vedete dall'ultimo, Carlo faceva vedere i dati set prioritari relativi solo all'ambito geologico, se non ricordo male, nella slide vedete quelli derivanti in totale e quindi per tutte le tipologie di dati dall'ultimo harvesting che abbiamo fatto con il geoportale INSPIRE che è risalente a qualche settimana fa. Per cui noi abbiamo in totale, quindi che coprono tutte le categorie tematiche INSPIRE, sono 204 dataset prioritari, documentati come dataset prioritari. di questo, come vedete, anche qui viene evidenziata la criticità, che diceva Carlo, della mancata accessibilità attraverso servizi di visualizzazione e download, perché solo 36 sono scaricabili e solo 7 sono disponibili attraverso un servizio di visualizzazione. Nella guida operativa trovate anche delle indicazioni per quanto riguarda l'identificativo da assegnare ai dataset e ai servizi nei metadati. Questo è un discorso particolarmente importante perché poi nelle ultime versioni del catalogo ogni singolo metadato è identificato univocamente e in modo persistente da un URI in modo tale che l'utenza possa, anche in questo caso, trovare facilmente il metadato e quindi i dati e i servizi che sta cercando e questo metadato sia univocamente in modo persistente identificato. L'URI che viene assegnato nel repertorio, la struttura la vedete nella slide, per cui c'è un namespace relativo al catalogo nazionale, è l'ultima parte del URI che è costituita dal file identifier, cioè dall'identificativo del file, che è un metadato obbligatorio che bisogna inserire nel record di metadati. Questo fa sì che a ogni record di metadati ovviamente coincida, cioè corrisponda univocamente una landing page, quindi una pagina in forma che ha un URL stabile. Prima non era, in mancanza di questo URI non era così, per cui se io magari trovavo e visualizzavo una scheda di metadati, quella aveva un URL generico per cui io non potevo per esempio memorizzare quell'URL in modo tale poi da ritornarci successivamente. Con l'utilizzo dell'URL ovviamente questo è possibile. come vi dicevo l'URL viene costruito sulla base del file identifier che viene fornito dalle amministrazioni nei metadati. Quello che si raccomanda ma non è obbligatorio per l'identificativo del dataset che quindi è diverso dal file identifier prevede di utilizzare un URI che sia comunque risolto per esempio dalla pagina della scheda dei metadati se l'amministrazione fornisce scusate fornisce un proprio URI quello ovviamente è corretto e viene considerato l'URI che l'amministrazione fornisce. Nel caso questo URI non venisse fornito direttamente dall'amministrazione ovviamente vale l'URI che viene costruito dal repertorio dal repertorio. Passiamo a un minuto sì ok questa parte è più importante credo risorso online è ovvio che l'accessibilità è legata anche alle informazioni presenti nei metadati che sono relative ai servizi che rendono disponibile il dato cioè l'utente che va a cercare i metadati ovviamente approfondisce le informazioni sulla base dei metadati però alla fine l'obiettivo che ha l'utente è quello di accedere direttamente al dato per cui il primo punto di cui bisogna tenere presente è quello di fornire un URL che sia valido e funzionante e nel caso si tratti di un servizio di rete indicare un URL del documento di GetCapabilities che però includa almeno i parametri obbligatori che sono request service questo non sempre è così per cui potete verificare se andate sul catalogo e trovate URL che non funzionano oppure URL errati e così via è ovvio che in quel caso viene a cadere tutta la diciamo la funzionalità del catalogo e dei metadati l'accessibilità di cui parlavamo è che una criticità è dovuta in molti casi non come vi dicevo all'inizio non tanto alla mancanza di servizi ma ma alla errata documentazione della relazione tra dataset e servizi questi sono i numeri presi dal geoportale Inspire ovviamente che riguardano tutti le tipologie dei dati come vedete anche qui viene evidenziato che solo una piccolissima parte di dataset sono disponibili attraverso i servizi di download e i servizi di validazione ma se vedete i numeri del repertorio per quanto riguarda i servizi abbiamo più di 2500 servizi che non corrispondono ovviamente ai numeri del geoportale questo è dovuto al fatto che come vi dicevo è errata la documentazione di questa relazione avrei voluto spiegarvela meglio con più tempo però velocemente magari faccio questo esempio del WMS che però è valido poi per WFS Atom anche se ci sono poi delle particolarità in quel caso per migliorare l'accessibilità quindi bisogna documentare il metadato del dataset che come abbiamo visto include anche un identificativo del dataset e contestualmente bisogna documentare il metadato del servizio questi due metadati sono comunque collegati perché nel metadato del dataset c'è l'url del servizio e nel metadato del servizio c'è l'url dei metadati del dataset questo però non è sufficiente al geoportale Inspire per rendere per identificare quel dataset come o scaricabile o visualizzabile quindi attraverso WMS o WFS o Atom e così via perché bisogna intervenire anche nel documento di Get Capabilities le regole Inspire prevedono che ci debba essere un'estensione rispetto al base che in genere è OGC e in questa sezione di Capabilities estesa bisogna inserire innanzitutto l'url al metadato del servizio che quindi deve corrispondere effettivamente con il metadato del servizio pubblicato in più siccome nel Get Capabilities si devono dettagliare i vari layers che sono serviti da quel servizio per ciascun layer bisogna inserire l'url ai metadati del dataset è chiaro è chiaro che se io metto null di un metadato che non corrisponde nell'id a quel metadato che ho pubblicato nel catalogo dei metadati questo crea questo errore nella mancata accessibilità proprio perché l'id e quindi l'informazione da cui parte il geoportale è proprio l'informazione che è presente nel Get Capabilities a livello di layers quindi se si seguono queste operazioni diciamo in questo modo correttamente così come ve l'ho descritto velocemente quel dataset viene identificato dal geoportale SPIRE in questo caso trattandosi di WMS come un dataset che è visualizzabile e quindi aumenterà quel numero che avete visto nel geoportale SPIRE in corrispondenza di quei dataset qua velocemente un esempio a destra a sinistra le extended capabilities quindi come vedete c'è l'URL dei metadati del servizio a destra la parte di layer dove c'è l'URL del metadato del dataset la stessa cosa vale per il WFS in questo caso bisogna però prestare attenzione perché un'ulteriore attenzione perché nelle capabilities estese richieste di SPIRE bisogna anche indicare l'id del dataset che quindi anche in questo caso deve coincidere all'id del dataset che è presente nei metadati del dataset e quindi nei metadati del servizio e qui è la stessa cosa analoga cosa diciamo nel caso di Atom per cui bisogna nell'Atom service feed bisogna inserire l'URL ai metadati del servizio e poi per ciascuna entries bisogna inserire l'URL del metadato del dataset e l'identificativo questo è un esempio di come documentare e inserire la RUL all'inizio ci sono una serie di strumenti che sono resi disponibili da Aged per supportare le amministrazioni la guida operativa che trovate pubblicata sul sito del repertorio anche con esempi ma anche su VTAB ovviamente per le amministrazioni che non hanno un proprio catalogo basato sullo standard di CSV si possono utilizzare altre funzionalità presenti nel repertorio tra cui l'editor ma c'è anche l'upload di file XML oppure la revesting di cartelle contenenti gli XML disponibili su web a tutti questi strumenti associato comunque a un validatore basato su Schemerman e poi c'è quello strumento che vi dicevo per cui se le amministrazioni hanno già documentato i propri metadati sulla base delle regole non principali possono utilizzare questo strumento per trasformarli nella nuova versione tutti questi strumenti che vi ho velocemente lencati sono disponibili per riuso e sono disponibili nel catalogo del software open source delle pubbliche amministrazioni grazie grazie mille Antonio per questo intervento che ha chiarito insomma in maniera dettagliata quelli che sono gli elementi dei quali appunto dobbiamo far tesoro per poi pubblicare un metadato conforme grazie ancora e se non ci sono domande credo di no perché nella chat non ho domande a questo punto io proseguirei visto che abbiamo un pochino sforato con i denti ma insomma era troppo importante insomma che i colleghi raccontassero quanto è stato fatto dal punto di vista espagre e quali sono ancora le criticità legate alla metadatazione lascerei la parola al mio collega Marco Pantaloni e scusate c'è stato rientro di cuffia che appunto inizierà lo slot successivo la fase di armonizzazione in particolare parlerà del lavoro che abbiamo avviato per la armonizzazione della banca dati relativa alla cartografia geologica in scala 1 a 100.000 quindi lascio la parola a Marco grazie pensi che fa problemi? ok adesso no ok allora buongiorno a tutti condivido il mio schermo vediamo un attimo si vede? ok allora buongiorno a tutti come anticipato Maria Pia diciamo la mia presentazione insieme a quella successiva di appunto di Maria Pia intende raccontare insomma il processo che abbiamo seguito in tutta la fase di acquisizione analisi armonizzazione e pubblicazione dei servizi relativi alla cartografia geologica in scala 1 a 100.000 il lavoro è stato fatto da me da Valentina Valentina Campo Maria Pia Gennaro Monti e Renato Ventura vabbè diciamo il dataset di partenza credo che molti di voi lo conoscono consiste nella copertura cartografica in scala 1 a 100.000 d'Italia che consiste in 277 fogli geologici acquisiti realizzati tra il 1877 e il 1976 stampati tra il 1884 e il 1989 alcuni in prima edizione mentre altri quelli rappresentati nella carta con rosso e marrone acquisiti ammodernati diciamo così aggiornati in seconda edizione ovviamente questo lungo arco temporale di acquisizione del dato a partire appunto da fino a 800 fino alla seconda metà del 900 comporta una grande differenza una sostanziale differenza sia dal punto di vista scientifico che da un punto di vista cartografico se andiamo dal foglio in alto a sinistra il primo foglio stampato il foglio Palermo fino a quello in basso a destra uno degli ultimi il foglio solo del 1967 possiamo notare appunto una grande differenza tra sia appunto di carattere scientifico che di rappresentazione cartografica un altro esempio abbastanza significativo è quello del foglio Roma 1888 prima edizione a sinistra e la seconda edizione del 67 tetta a delta già soltanto la visualizzazione della numerosità diciamo così degli elementi litostratigrafici andiamo da 15 elementi da una quindicina di elementi nel foglio nella prima edizione a circa 40 nella seconda e questo ovviamente comporta nel momento in cui mettiamo insieme l'intera copertura cartografica dei problemi di armonizzazione tra elementi tra fogli soltanto nell'ultime fasi operative del progetto diciamo i fogli sono stati arrischiti da elementi ulteriori quali per esempio dei modelli in tre dimensioni o sezioni geologiche o sezioni stratigrafici tra il 2002 e il 2004 tutta la copertura cartografica prodotta in formato classico cioè su fogli geologici stampati è stata vettorializzata e questo ha portato alla produzione di una serie di elementi in formato shape quindi di shape file tra cui appunto le unità geologiche cioè i poligoni rappresentativi delle unità litostratigrafiche gli elementi stratimetrici quindi giaciture dei corpi rocciosi una simbologia classica dei fogli geologici la presenza di faglie pieghe terrazze alluvionali e le tracce delle sezioni geologiche oltre a questi sono stati realizzati documenti in formato database quello che viene chiamato ULF cioè unità di leggenda del foglio ai quali è stata associata appunto la chiave ULF che è appunto un documento di test in formato Word diciamo la vetustà dell'acquisizione è significata dal formato in cui l'ha stato prodotto WeWord 97 e che appunto riporta la descrizione dell'unità di leggenda e questi sono gli elementi che abbiamo utilizzato nel nostro lavoro quindi lo shape file delle unità geologiche i dati tabellari appunto in formato in database e la chiave ULF ovviamente la vetustralizzazione in foglio geologico è abbastanza complessa questo è un dettaglio del foglio Trento e quindi è stata fatta un'acquisizione in digitale realizzati appunto una serie di poligoni rappresentativi della carta che comprendevano sia le unità geologiche in senso lato che tutti gli elementi diciamo minori anche da un punto di vista cartografico come per esempio il dettaglio di questo campo filoniano appunto ricadente nel foglio Trento e poi oltre a questi anche gli elementi geomorfologici in formato poligonale questa è una restituzione così abbastanza improvvisa della cosa che cosa abbiamo analizzato partendo per esempio dal foglio Monte Adamello abbiamo recuperato appunto le informazioni relative alle unità e quindi diciamo abbiamo sfruttato il database ULF che contiene appunto la descrizione delle singole unità da queste sono state estratte poi appunto dei singoli elementi significativi che sono appunto il nome dell'unità in questo caso ecco vediamo questo strati di Lavalle l'età geologica l'età medico-medio-superiore suddivisa in età inferiore età superiore è stato attribuito un codice litologico una litologia principale le classi litologiche despiettive dell'unità di leggenda la loro genesi la consistenza l'ambiente deposizionale e lo stato dell'ammasso cioè la stratificazione del sistema noi abbiamo preso questi elementi e li abbiamo armonizzati da un punto di vista semantica sfruttando gli standard internazionali e quindi trasformato le informazioni relative all'età alla litologia al rapporto composizionale fra le unità litologiche e all'ambiente deposizionale e al processo deposizionale secondo gli standard appunto internazionali gli standard che abbiamo usato sono Geoscience Markup Language e diciamo lo standard di Inspire sappiamo che GeoCML è un modello di dati e uno standard di trasferimento per i dati geologici fondamentali mentre Inspire invece è un progetto appunto l'abbiamo già visto dell'Unione Europea che ha l'obiettivo di realizzare infrastrutture di dati in ambito appunto europeo il passaggio tra uno standard e l'altro diciamo è stato sviluppato in passato nel progetto One Geology Europe che aveva l'obiettivo di realizzare una carta geologica digitale dell'intero dell'intera Europa e quindi diciamo è servita come test di passaggio tra l'infrastruttura appunto GeoCML e Inspire Scusate ma qui nella sala c'è qualche problema tipo tecnico non cammina più ok dunque vabbè GeoCML appunto è un modello dati costruito su specifiche dalla commissione geologica internazionale nell'ambito dell'International Union of Geological Science e mentre Inspire appunto scusate ma per quanto riguarda Inspire sappiamo che è rappresentata da diversi temi quello a cui facciamo riferimento è il tema Geologia che individua diverse diciamo così etichette relative soprattutto a degli schemi applicativi specifici per Geologia e Geofisica gli elementi che noi abbiamo preso in considerazione per il nostro lavoro sono ovviamente il termine Lidologia Geocronologia e poi il Composition Part Roll cioè il rapporto fra le unità litologiche che costituiscono le singole unità e poi il processo deposizionale e l'ambiente deposizionale abbiamo costruito una tabella di conversione fra la litologia rappresentata nel foglio 100.000 un termine litologico secondo appunto il vocabolario di Spire e identificate gli identificativi uniformi quindi abbiamo trovato identificato un URI per la litologia un URI per il processo deposizionale e l'URI dell'ambiente deposizionale abbiamo valutato che soltanto nel settore Nord Italia abbiamo circa una novantina 85 litologie differenti e quindi abbiamo costruito appunto una tabella specifica per ciascuna unità di leggenda in cui veniva mantenuta la descrizione litologica geologica diciamo classica abbiamo appunto definito una litologia un'età inferiore e un'età superiore l'ambiente deposizionale e il processo deposizionale per quanto riguarda l'aspetto diciamo di rappresentazione invece abbiamo sfruttato delle tabelle un color un color code per l'attributo litologico derivato da One Geology Europe e analogamente un color code per la parte cronostratigrafica sempre derivata da One Geology e questo ci ha molto diciamo agevolato nel processo di armonizzazione perché nel momento in cui rappresentiamo le litologie con colori specifici riusciamo a nel momento in cui tematizziamo le nostre le nostre tabelle riusciamo a identificare le diciamo le differenze o comunque diciamo gli errori di armonizzazione che possono possono evidenziarsi il risultato che abbiamo ottenuto è questo abbiamo lavorato appunto in maniera separata perché la gestione dell'intero dataset è piuttosto impegnativa e quindi diciamo abbiamo costruito cinque diversi dataset che poi abbiamo collegato fra loro se guardiamo appunto la restituzione la tematizzazione della parte relativa al nord Italia vediamo che il risultato è a colpo d'occhio sufficientemente significativo a parte qualche elemento di cui vedremo appunto il significato come per esempio appunto in questo caso vedete la differenza di rappresentazione tra questa unità che ricade nel foglio milano è stata scritta come ghiaie sabbiose e sabbie quindi con un identificativo appunto specifico per questo termine litologico mentre per la parte appunto circostante veniva descritta come alluvioni fluori glaciali ghiaiose e questo fa parte diciamo questo tipo di di problema di errore nasce deriva dal fatto di aver lavorato in una fase iniziale a un'armonizzazione attraverso diciamo a un'armonizzazione semantica attraverso l'uso di tabelle e non diciamo la tematizzazione cartografica lo stesso ecco questo è un altro esempio di problema derivato dall'armonizzazione semantica nell'attacco tra il foglio Verona e il foglio Padova abbiamo appunto individuato la differenza tra una classificazione basata su un termine litologico come calcari viceversa a sinistra invece un'identificazione come marne di priabona nonostante appunto la litologia fosse ovviamente la stessa ancora un altro elemento di cui stiamo appunto cercando di risolvere è questo relativo a degli elementi cartografati che però non hanno delle rispondenze litologiche come per esempio in questo caso il nome Ulf è quello di isolotti lagunari alveo dei fiumi che quindi non hanno la sua corrispondenza appunto litologica o come in quest'altro caso in cui invece sono stati rappresentati superfici d'eresioni e paleosuoli quindi ecco elementi di questo tipo ne abbiamo identificati un certo numero e stiamo cercando appunto di risolverli via via che il processo di armonizzazione prosegue abbiamo anche tematizzato appunto anche l'aspetto degli ambienti deposizionali e del processo deposizionato la nostra finalità è quella di trasferire diciamo questo termine questa copertura cartografica armonizzata nel portale europeo e GDI cioè nell'European Geological Data Infrastructure nella quale attualmente per la parte di cartografia geologica onshore risiedono soltanto appunto i risultati del progetto One Geology Europe e un progetto di armonizzazione effettuato tra Italia e Slovenia nell'ambito di un progetto europeo EME Plus Finisco dicendo che questo lavoro è stato in parte finanziato con un contributo di EPOS Italia nella Joint Research Unit di EPOS Italia che ha appunto che ha riconosciuto la validità dei nostri dati perché fa parte di una delle fasi delle attività appunto del progetto che è quella di integrare l'accesso ai prodotti e ai servizi adesso la parola a Maria Pia che appunto prosegue con con l'attività di pubblicazione dei servizi grazie Marco aspetta che spengo l'audio dunque aspettate proseguo questo intervento sul schema dati geologi chiaramente relativo all'armonizzazione che abbiamo portato avanti utilizzando lo schema Inspire appunto geologi e Marco diciamo ha già illustrato pienamente qual è stato il processo e l'articolazione insomma delle attività forse di preparazione del dataset di partenza perché di fatto per arrivare diciamo alla visualizzazione finale del dato armonizzato rispetto al quale ancora dobbiamo fare dei ragionamenti sostanzialmente il lavoro è stato di preparazione è stato estremamente lungo questo perché perché di fatto abbiamo evidenziato tutta una serie di criticità facendo anche un'analisi come dire a priori rispetto al dataset che avevamo a disposizione perché gli attributi come abbiamo già visto non venivano codificati in una maniera chiara oppure gli attributi provenivano da domini non precisi quindi diciamo un'estrema variabilità di utilizzo dei termini e chiaramente diciamo per arrivare poi all'armonizzazione del dato che è lo scopo finale abbiamo a disposizione degli archivi di dati che sono spesso come dire diversi da quello che è l'originale questo che ha comportato che comunque all'inizio c'è stato assolutamente un momento di analisi e valutazione e lavoro proprio sul dataset di partenza per poter capire quale approccio diciamo seguire chiaramente tutto parte dal portale di Inspire perché sostanzialmente è quello che contiene tutte le indicazioni per poter procedere alla realizzazione di un dataset armonizzato vi segnalo diciamo la parte di quick links che anche stamattina Carla ha evidenziato con le sue slide perché chiaramente è un portale che contiene tantissime informazioni e questi quick links sostanzialmente vi aiutano a navigare in maniera un pochino più controllata rispetto ai contenuti il primo link che vi segnalo è questo relativo ai Time Inspire gli Inspire Teams in cui appunto abbiamo l'elenco della disponibilità dei dati e dei temi concepiti da Inspire in particolare nell'annex 2 rileviamo la presenza del tema geologi cliccando sul quale appunto viene fornita a nostra disposizione tutta una serie di elementi codificati anche con delle piccole icone insomma che consentono in prima battura di avere un approccio come dire un po' schematico anche di informazione in prima istanza viene segnalata la presenza di un technical guidelines che in realtà diciamo un documento estremamente completo ma anche complesso che descrive tutto l'approccio tematico che occorre mettere in atto per proseguire l'armonizzazione verso l'armonizzazione di un dato Inspire e che diciamo del quale vi propongo solo la prima pagina perché in realtà è un tema di oltre 300 pagine quindi diciamo è estremamente impegnativo però diciamo che anche per comprendere meglio il contenuto scusate del di questo di questo documento è possibile accedere alla sezione del registro in cui in prima battuta avete una definizione di geologi e quindi una definizione ben precisa già da questa prima come dire un primo approccio si è a disposizione anche la possibilità di evidenziare la presenza di altri sottotemi come idrogeologi e geophysics ai quali appunto afferiscono ulteriori schemi di mappatura per sempre diciamo da quell'interfaccia che vedevate prima sostanzialmente avete la possibilità anche di accedere a quello che è lo schema delle tabelle che in realtà compongono questo database col tema geologi decisamente diciamo questo è un approccio estremamente complesso se si approccia al tema diciamo utilizzando questo schema in realtà risulta ai molti risulta essere abbastanza complicato tuttavia sempre nelle data specification è possibile diciamo approcciare a dei singoli slot di tabelle che vengono descritte in maniera estremamente dettagliata diciamo che gli elementi dei quali noi siamo partiti sostanzialmente sono state l'individuazione delle geometrie perché chiaramente noi partivamo da un dataset che metteva a disposizione tutta una serie di elementi queste geometrie che sono la rappresentazione grafica appunto delle geologic feature che individuiamo in questa tabella sono state come dire mappate utilizzando diciamo la tabella mappate feature e all'interno del campo shape vengono riportati tutti gli elementi geometrici tuttavia navigando ancora in questo schema è possibile approcciare le geologic feature in cui diciamo abbiamo identificato quelle che sono le voci di leggenda che prima Marco vi descriveva quindi di fatto la mappatura di queste geologic feature avviene anche attraverso l'altra tabella che vedete collegata che attraverso il geologic event ne caratterizza sia il processo che l'età questo tipo di approccio sicuramente diciamo consente una facilitazione per quanto riguarda la lettura dei termini ma una cosa che salta all'occhio è la presenza di questi di queste code list che sono quelle appunto di cui parlavamo prima diciamo che la semantica ha un valore estremamente importante per cui ogni elemento che voi vedete che conclude con questo termine value segnala diciamo a chi sta facendo utilizzando queste tabelle che in realtà deve far riferimento a delle code list per esempio per quanto riguarda la collection type che è la tabella che vedremo succedendo successivamente le code list a disposizione anche diciamo raggiunte anche attraverso altri strumenti che il portale di Sperci offre fa sì che possiamo con facilità evidenziare che la code list di riferimento ci suggerisce quello che è il tema cioè la geologic map che è il tema che noi vogliamo mappare diciamo che con queste prime tre tabelle abbiamo navigato lo schema solo fino diciamo a questa posizione inclusa anche la geologic collection di cui vi ho parlato prima perché abbiamo visto insieme come diciamo con quale facilità è possibile raggiungere i valori che devono comporre la classificazione attraverso la code list del sistema e quindi diciamo che appunto ho riportato qui il termine estrapolato da quelli che sono le technical guidelines che sono estremamente chiare per cui appunto identificando questa come geologic collection e quindi come collezione dei nostri temi per la cartografia al centomila abbiamo diciamo come dire navigato una parte di questo schema successivamente manca l'ultimo ramo in cui viene descritta e declinata anche la geologic unit che a sua volta si agrichisce di informazioni che provengono dalla composition part in cui è descritta sia la litologia come abbiamo visto prima anche con Marco e anche diciamo con quale proporzione questa è presente all'interno della dell'unità geologica queste diciamo che vedete in giallo sono appunto le tabelle che noi abbiamo utilizzato per mappare questo dataset in particolare chiaramente qui in alto c'è un'altra che sostanzialmente non abbiamo mappato perché è relegata soltanto a tutti coloro a quelli a tutti i proprietari dei dati che dispongono anche di ulteriori classi tematiche che consentano di discriminare i contenuti all'interno della mappa geologica non era il nostro caso e quindi diciamo non l'abbiamo utilizzata e un altro elemento importante appunto è che la geologic feature poi ha ulteriori diramazioni legate ancora una volta alle strutture geologiche quindi i fagli e così via piuttosto che la geomorfologia o la presenza di Boreol una diciamo un remind sulla presenza spesso vedete nello schema di valori che possono essere voidable con questo tema sempre nelle technical guidelines c'è una raccomandazione rispetto alla quale appunto i valori dei campi specialmente se questi sono uri non possono essere lasciati vuoti pertanto è necessario che ogni campo abbia anche se è impossibile compilarlo abbia comunque all'interno un valore che proviene dalla codelista voidable void reason value type e quindi diciamo abbiamo tre tipi di campi voidable in questo caso che sono l'unpopulated quando comunque un'informazione non è stata popolata all'interno del database originale sconosciuta oppure withheld se riguarda un'informazione che magari è riservata ad ogni modo ci sarà sempre un uri che porta diciamo l'informazione fino alla sua completa comprensione ritornando sempre ai nostri quick links infatti o scope vado un pochino più veloce c'è la modalità anche di accedere in maniera come dire un pochino più chiara quelle che sono le informazioni quindi abbiamo questi tre elementi il catalogo piuttosto che flussi interattivi oppure ricerche dirette ma diciamo che qui si approccia quando già comunque si conoscono dei termini quindi in realtà in questo modo scrivendo appunto nella casella geologic collection posso andare a vedere quelle che sono tutte le informazioni relative alla mia geologic collection e anche alle mie code list una cosa importante è la presenza di questi elementi che si chiamano matching table solo un piccolo sketch su questo perché la possibilità di avere una matching table significa avere un file excel che riporta le stesse informazioni che abbiamo visto negli schemi di prima la cosa importante appunto è che qui abbiamo comunque delle descrizioni che ci aiutano sempre nella nostra mappatura e poi c'è diciamo una sezione che viene lasciata all'utente per diciamo fare questo matching per attivare queste corrispondenze attenzione perché non tutte sono estremamente dettagliate quindi comunque un check rispetto allo schema ma sempre fatto un dettaglio su queste perché diciamo presentano diverse sotto diciamo sotto sezioni per cui la prima parte è riferita diciamo all'oggetto che abbiamo selezionato nella nostra ricerca per esempio la geologic unit o la geologic feature successivamente negli fogli successivi sono presenti contestualmente anche le code list nonché la descrizione delle liste complesse dei tipi complessi scusate dei complex types che per esempio sono tutti quegli elementi che stanno nella mappatura e quindi nella banca dati che si compongono come in questo caso di di campi e l'ultimo tab che vi propongo è questo dell'association in cui è possibile diciamo leggere in maniera più chiara le associazioni che vedete nello schema e sicuramente una good practice che abbiamo diciamo anche messo in atto è stato quello di attingere anche a vocabolari provenienti da altri repository come quello geocml di cui avete già parlato ha già parlato Marco prima che in realtà insomma ci hanno aiutato in quelle situazioni in cui effettivamente le code list proposte da Inspire non erano diciamo così come dire aderenti a quelle che era la descrizione che volevamo codificare quindi qui avete non solo la disponibilità di tutti i vocabolari ma anche diciamo gli schemi perché geocml diciamo propone degli schemi come quello che abbiamo visto prima leggermente differenziati anche perché diciamo nasce proprio per la mappatura dell'informazione geoscientifica come abbiamo fatto questo l'ultimo passaggio è relativo all'utilizzo di un software che ci ha aiutato in questo lavoro in cui appunto abbiamo il software in questione si chiama Eile Studio che diciamo abbiamo usato in una versione chiaramente free consente questo software di fare cosa di importare lo schema dei dati o di origine di importare anche quello di destinazione di importare anche i dati identificare tutte le feature di interesse nello schema di destinazione identificare le relazioni così come abbiamo visto prima e trasformare il dato in un formato diciamo conforme a Inspire quindi diciamo vi propongo velocemente l'interfaccia che è molto semplice in cui appunto potete caricare il schema sorgente la cosa diciamo estremamente comoda è che già diciamo nei settaggi di questo software sono presenti anche già gli schemi caricati pertanto basta soltanto sceglierli e caricarli chiaramente qui poi va fatta tutta un'operazione di lettura anche attraverso l'help di tutti questi come dire di tutte queste diciamo di tutti questi diciamo immagini che vengono usate per descrivere il tipo di feature per esempio ci sono tipo di feature molto molto semplici oppure astratte e così via quindi diciamo vi invito poi a guardare con attenzione l'help perché è fatto molto bene e per ogni singolo simbolo grafico che ritrovate qui riportato c'è una descrizione puntuale del significato chiaramente diciamo abbiamo visto prima che le geometrie che appartengono al nostro stato di partenza diciamo sono targhettate all'interno del mappet feature e quindi all'interno del campo shape quindi evidenziando questi due campi con facilità attraverso l'utilizzo di questo di questa funzione è possibile diciamo fare un'associazione per esempio in questo caso abbiamo usato la funzione rename che semplicemente copia il contenuto da una colonna verso dal campo jam verso il campo shape che appartiene ovviamente allo schema trasformato un'altra cosa che abbiamo utilizzato per esempio è stato il merge perché chiaramente per attingere la geologic collection abbiamo avuto bisogno di far confluire tutti gli elementi geometrici in un unico strato informativo la cosa buona anche di questo software è il fatto che posso avere attraverso il tool map una preview del dato armonizzato purtroppo diciamo il mio computer non ce la faceva e quindi ho potuto caricare una preview estremamente limitata ma in realtà insomma è possibile controllare tutto il dataset l'ultimo passaggio è quello dell'esportazione come vedete ci sono diversi formati anche in file di esportazione durante la fase di esportazione potete attingere a modalità di riproiezione che anche queste come vedete appartengono vengono classificate attraverso delle URI quindi ogni singolo sistema di riferimento viene raggiunto attraverso una URI questo è il GML come dire armonizzato che chiaramente insomma è un pochino complicato da leggere però di fatto qui individuiamo le mappe e il feature che sono riportate attraverso i loro i loro punti l'ultimo step che vi illustro velocemente è quello dell'ultima fase di validazione perché una volta che abbiamo prodotto il GML sostanzialmente dobbiamo vedere se effettivamente questo quindi attingendo diciamo a quel tool che troviamo sempre sui pick links è possibile individuare una classe di conformità che in questo caso per noi è stato interoperare dal dataset in GML e attivando diciamo gli elementi di controllo abbiamo avviato diciamo il nostro test il risultato è estremamente insomma facile da leggere diciamo che i temi che vedete in arancione sostanzialmente sono solo dei warning degli avvisi l'unica parte che in questo caso può apparentemente sembrare errata è quella relativa all'analisi delle delle geometrie ma diciamo che questo errore in realtà è legato ad un bug del validatore per cui anche su BKITAB che come diceva Carlo stamattina adesso è diventato un repository ufficiale per queste informazioni abbiamo trovato insomma che effettivamente non dipendeva da noi ma in realtà da questo bug in conclusione abbiamo fatto tutto questo lavoro perché chiaramente siamo intenzionati a renderlo disponibile anche sul territorio nazionale insomma creare attraverso il metadato la possibilità di raggiungere questo dato e di scaricarlo attraverso dei file ATOM e poi appunto ci piaceva cogliere questa occasione perché siamo disponibili chiaramente a collaborare con le regioni anche facendo incontri mirati su dei temi particolari siamo disponibili a proseguire questi workshop tematici per completare lo schema geologi come avete visto insomma ha interessato solo una parte dello schema INSPIRE e anche diciamo a studiare meglio i vocabolari e lo schema GIOCML che in realtà rappresenta in maniera più completa quella che è l'informazione geologica e chiaramente siamo disponibili ad ogni altra vostra proposta e con questo vi ringrazio ora forse era prevista ora una pausa caffè sì aspetta devo quindi vi direi di di interrompere per 15 minuti come avevamo scritto su 10 15 minuti magari vi chiederei di non diciamo di non uscire dalla connessione ma semplicemente di spegnere il microfono e la telecamera e ci riveniamo qui alle facciamo alle 11 e 40 se vi è possibile noi ci saremo grazie 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 eccoci qui noi siamo abbiamo fatto la pausa caffè spero anche voi ho scritto in chat in realtà che se ci sono domande magari le mandiamo alla fine così da non da non costringere poi i relatori diciamo ad andare di corsa a questo punto se riprendiamo lascio la parola al mio collega Gabriele Leoni che invece ci farà sempre relativamente al tavolo l'attività del tavolo adesso inizia lo slot relativo ci farà un assunto sulle attività svolte sulle banchità dei servizi geologici in Italia lascio la parola a Gabriele grazie buongiorno a tutti grazie marevia spero che mi sentiate e spero che adesso vediate anche qualche cosa si vede sono Gabriele Leoni ci addentriamo adesso nelle i contenuti delle banche dati dei servizi geologici in Italia attività che abbiamo svolto insieme a Daniela De Logo e il resto del tavolo per capire un po' meglio quali sono i contenuti oltre poi Valentina si concentrerà sui servizi e sulle forme di la conoscenza geologica in Italia cominciamo se permettete le banche dati del servizio geologico nazionale e poi vedremo quello delle regioni e i punti di contatto che abbiamo riscontrato sapete tutti perfettamente per averle visitate e usarle continuamente le banche dati del servizio geologico sono disponibili attraverso il portale e sono storicamente per contenuto raccolte in voci diverse qui ne trovate nove sono carte geologiche patrimonio geologico eccetera eccetera sono contenuti nel tempo sono evoluti ma più o meno sono simili anche Inspire sostanzialmente fa rischio naturale rischio naturale geologia idrogeologia sostanzialmente gli schemi sono rimasti di classificazione dei contenuti geologici sono rimasti più o meno quelli le banche dati del servizio geologico sono disponibili attraverso il visualizzatore WebGIS e ordinati in un catalogo che rispecchia sostanzialmente questa classificazione qui qui nel dettaglio potete ho elencato semplicemente le 36 circa banche dati che il servizio geologico mette a disposizione organizzate per facilità di comprensione soprattutto in temi in una serie di temi fanno la base padrone ovviamente come vedete i temi legati alla geologia cioè le carte geologiche di base seguono le carte geologiche tematiche come le idrogeologiche e litologiche e legate a tematismi particolari quelle derivate dalla carta geologica 50.000 un'altra classe di banche dati riguardano le indagini quindi cosa c'è nel sottosuolo una piccola classe ma emergente di banche dati dei programmi e un tavolo apposito che si occupa la geologia in 3D abbiamo diverse banche dati legate alle georisorse sia per motivi storici che per anche qui interesse crescente molte banche biofisica queste costruite nel tempo e per acquisizione successiva anche di dati dai privati è un ricco contenuti relativi al patrimonio geologico che non sono soltanto i geositi ma anche i contenuti presenti nel museo e le cartografie e gli studi relativi agli itinerari geologici sulla pericolosità geologica come vedete abbiamo banche dati progetti in realtà non soltanto singole banche dati legate un po' a tutti i pericoli a partire dalle frane e i repertori degli interventi c'è della difesa del suolo itaga per le faglie attive accapaci due database sui sinkhole una in ambito urbano un ambito più generale ancora frane per il in particolare per il comune di roma un progetto insieme legato agli tsunami legato ai protezioni civile e istituzionale geofisica e vulcanologia e ancora pericolosità sismica nell'IEE catalog dicevamo anche dell'uso e consumo di suolo sono temi molto vicini al nostro interesse oltre a l'encover del progetto Corin abbiamo mappe di copertura del suolo e soprattutto il consumo di suolo che ha un fortissimo interesse soprattutto per la valutazione delle potenzialità del territorio e infine la banca adatta in costruzione anche sui siti contaminati sia quelli in interesse nazionale che quello regionale per quanto riguarda i servizi regionali e delle province autonome all'interno della rete italiana dei servizi geologici il nostro tavolo ha promosso un censimento delle banche dati di cui dispongono le regioni e le pubbliche amministrazioni con informazioni per quanto riguarda i contenuti riguardo al nome all'ufficio e la responsabile effettiva dei dati il referente cioè colui che effettivamente può rispondere alle domande informazioni sui formati dei dati sulla estensione dei dati stessi e aggiornamento e applicazioni disponibili e naturalmente sulla data policy relativa ai dati tutte queste informazioni sono sintetizzate qui hanno risposto al nostro censimento per ora ma diciamo non 13 scusate al nostro censimento hanno risposto 13 regioni e province autonome per un totale di circa 230 temi diciamo banchedati di cui 132 a copertura regionale e 92 a copertura parziale cioè non a completa copertura della regione se diamo un'occhiata banchedati per scala di rappresentazione origine della banca dati sono poche banche dati a piccola scala dopodiché la maggior parte delle regioni ha cartografia geologica al 50.000 che è legata al progetto CARG ma anche al 25.000 sono dettagli maggiori fino al 10.000 e addirittura 5.000 abbiamo carte geologiche e geotematiche a scale anche di gran dettaglio avete nelle regioni e ovviamente se guardiamo ai tematismi rappresentati tutti quanti hanno rappresentazione legata alla geologia e o al progetto CARG e al progetto CARG molti dati sulla litologia litotecnica pochi ma potrebbe non essere aggiornato il nostro censimento legato alla geologia 3D e ancora georisorse quasi tutte le regioni hanno informazione sulle georisorse ed altri temi più meno rappresentati quindi finalmente cerchiamo di dare un'occhiata ai punti di contatto fra le carte geologiche nazionali che vedete rappresentate qui nella prima colonna semplicemente con uno e il colore blu e la presenza o l'assenza di banche i dati nella prima colonna abbiamo rappresentato la presenza al servizio geologico di temi di questo genere e nelle colonne sulla destra quelle legate alle regioni che finora hanno risposto praticamente come si vedeva nell'istogramma precedente quasi tutte le regioni per l'altro hanno banche alla geologia sono molto presenti anche ovviamente le banche dati del progetto CARG e carte litologiche geomorfologiche etrogeologiche sulle georisorse sappiamo che la competenza è prevalentemente regionale quindi effettivamente le regioni hanno grande disponibilità di dati informazioni forse anche maggiore di quelle di cui dispone adesso l'ISPRA sulla pericolità geologica c'è una discreta disponibilità sicuramente sappiamo che tutte le regioni partecipano al progetto IFI anche se non tutte lo hanno dichiarato ma diciamo potrebbe esserci vi prego di considerare questo censimento con beneficio di inventario e come vedete l'aggiornamento è ad oggi speriamo di procedere e rappresentarvi ma diciamo il primo il quadro che ci interessa evidenziare è questo il servizio geologico al servizio geologico disponiamo copriamo grossomodo quasi tutti i temi che interessano anche le regioni a parte diciamo non abbiamo carte come vedete qui nella casella in rosso esattamente carte litotecniche del tematismo litotecnico anche se abbiamo le informazioni legate alle indagini è una carta geologica una carta litologica come ci ha mostrato collega Pantalone adesso a cui sicuramente su cui possiamo crescere sviluppare qualcosa ad hoc qui c'è una casellina rossa legata alla mancanza di cartografia banche dati 3D nelle regioni mentre l'ISPRA se ne occupa direttamente ma anche qui sappiamo che diverse regioni in questo e probabilmente non siamo arrivati a cogliere questa informazione lo stesso per la geofisica probabilmente le regioni hanno meno competenza in questo ma aspettiamo di vedere completare il censimento relativamente al monitoraggio del terreno l'ISPRA il servizio geologico sta collaborando alla costruzione all'implementazione del PS giornale italiano per cui è vero che ancora non c'è a scala nazionale ma cerchiamo ci stiamo lavorando mentre alcune regioni sono più avanti e l'hanno già sviluppato per conto proprio non abbiamo non ci occupiamo al servizio geologico istituzionalmente diciamo di pedologia ci sono altri istituti che se ne occupano e né di speleologia che sono temi invece di competenza verso cui le regioni hanno sicuramente dati e interesse non ci occupiamo direttamente neanche di pianificazione anche se all'interno del progetto IFI il progetto IFI si occupa anche della mosaicatura dei piani di assetto etrogeologico e quindi senz'altro ha un interesse per lo specifico della pianificazione dell'assetto etrogeologico ma non a scala nazionale non ci occupiamo esattamente di questo quindi che cosa ci aspettiamo di sviluppare nel futuro per far crescere le banche dati aumentarle di contenuti e di consistenza per dare la ricognizione delle banche dati per le amministrazioni mancanti ci continueremo insisteremo perché queste informazioni vengano rese disponibili non a noi ma a tutti quanti cerchiamo di muoverci nell'integrazione delle mancanze abbiamo visto qualcosa non abbiamo al servizio geologico non facciamo al servizio geologico e qualcosa invece le regioni hanno meno hanno competenze o almeno ancora non si sono manifestate del tutto infine l'intenzione la speranza è creare mettere a disposizione non intendiamo creare ovviamente Inspire già ha sicuramente tutti gli strumenti che servono ma cercheremo di promuovere quindi non creare ma promuovere un punto d'accesso unico a tutte le informazioni geologiche disponibili per l'intero territorio nazionale e con questo vi ringrazio e vi passo la parola a Maria Pia grazie mille Gabriele grazie ancora per questo intervento esaustivo ed esplicativo insomma relativamente all'attività che sono state svolte e come diceva Gabriele chiaramente questi sono i dati che ci sono pervenuti ma contiamo appunto di ricevere da voi anche non solo aggiornamenti come già capitato nei giorni scorsi ma anche di avervi anche più popolosi al tavolo quindi passo la parola a Valentina Campo che invece farà un breve scursus sul lato accesso alle informazioni grazie allora continuando sulla scia di quello che ha detto rispetto appunto alle attività e al contributo che le regioni che partecipano ci hanno inviato fin qui andiamo un po' più nello specifico a vedere che cosa diciamo è emerso relativamente al discorso accesso ai dati geologici allora partiamo però da quello che fa il servizio geologico quindi raccontiamo un po' quello che abbiamo fatto noi fino a qui allora il servizio geologico è un organo cartografico dello Stato già Carlo stamattina vi ha parlato della consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale la CNITA istituita dal decreto legislativo trentadue duemiladieci che ha recepito in Italia la direttiva Inspire questa consulta questo organismo prende il posto del tavolo di coordinamento Stato-Regioni per il sistema nazionale di osservazione informazione ambientale e le modalità di funzionamento vengono stabilite da un DPCM del 2016 qual è il compito il servizio geologico è un componente della CNITA qual è il compito di questo organismo quello appunto di assicurare un raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni che producono dati dati ovviamente territoriali e il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare adesso ovviamente si chiama MITE ex MATM e con l'obiettivo di consentire il funzionamento di un'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e monitoraggio ambientale il presidente della CNITA viene nominato dal ministro e il servizio della segreteria tecnica della consulta svolge anche le funzioni di punto di contatto nazionale per Inspire sei sono le sezioni tecniche che hanno lavorato fino a diciamo al 2019 nel primo mandato sulle diverse tematiche e in particolare io ho seguito le attività della sezione tecnica 2 su MITE DATI la sezione tecnica 2 è coordinata da AGID ed è composta dai rappresentanti delle amministrazioni centrali regionali e locali che vedete in basso nella slide tra questi appunto ci sono anche alcune regioni che partecipano al tavolo H l'ho fatto oddio scusate condividi scusate ritorno allora velocemente su quello scusate non me ne ero accorta appunto accennato alla questione dell'ACNITA e alle sezioni tecniche di cui aveva parlato anche Carlo in particolare ho seguito i lavori della sezione tecnica 2 metadati che è coordinata da AGID composta dai rappresentanti delle amministrazioni centrali regionali e locali che vedete che potete ora leggere finalmente in basso nella slide e alla fine del suo mandato è stato prodotto un documento che sono appunto queste linee guida relative alle regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto territoriali che rappresentano l'aggiornamento del DPCM del 2011 adottato in attuazione dell'articolo cinquantanove del codice dell'amministrazione digitale con il quale è stato definito il profilo nazionale dei metadati necessari per descrivere nel repertorio i dati territoriali della pubblica amministrazione i servizi i relativi servizi in maniera condivisa ed interoperabile il concetto di interoperabilità diciamo immagino vi sia noto cos'è questo profilo il profilo intanto è basato sulle regole definite da Inspire e sulla base di questo profilo le amministrazioni pubbliche devono documentare le risorse geografiche di cui sono titolari attraverso i metadati che vengono poi pubblicati nel repertorio che rappresenta lo strumento per agevolare la conoscenza l'accesso e l'utilizzo del patrimonio dei dati territoriali questo aggiornamento quindi ci sono stati diciamo dieci anni a disposizione per recepire sia le modifiche introdotte nel frattempo nell'ambito di Inspire e sia per tener conto di quanto è emerso nell'applicazione di queste regole tecniche da parte delle amministrazioni e quindi c'era la necessità di apportare delle migliorie e delle integrazioni per facilitare sempre di più il processo di alimentazione del repertorio il 6 aprile è partita la consultazione pubblica di queste linee guida di cui vi ha parlato approfonditamente anche Antonio nella versione appunto 2.0 in temperanza all'articolo 71 del CAD e entro il 9 maggio tutti gli interessati hanno potuto quindi fino a domenica hanno potuto inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica al documento quindi nell'emore dell'adozione di queste linee guida Agida ha comunque pubblicato la nuova versione della guida operativa disponibile l'indirizzo che vi aveva mostrato anche Antonio in formato PDF con le istruzioni dettagliate per la compilazione dei metadati sulla base quindi del quale le amministrazioni stanno procedendo all'adeguamento delle proprie risorse sul portale del repertorio è disponibile anche un apposito tool che è quello l'RNDT metadata converter 13 che consente la trasformazione dei metadati dal vecchio al nuovo profilo sulla base delle indicazioni di questo documento veniamo appunto ai dati del servizio geologico di cui vi ha parlato poco fa Gabriele il patrimonio del servizio geologico accessibile all'indirizzo diciamo del portale si compone di una quarantina di banche dati realizzate prevalentemente con Postgres e ArcGIS oltre 150 metadati che sono presenti sul repertorio e anche diciamo un po' più di 150 servizi di mappa e per quanto riguarda le licenze le licenze vanno diciamo dal formato precedente al CCBI quindi dagli OEL al CCBI appunto abbiamo poi analizzato i dati che ci sono pervenuti dalle regioni che partecipano al tavolo e che hanno quindi inviato le loro diciamo le informazioni relative diciamo a l'accessibilità gli avevamo chiesto di compilare un un foglio Excel qui in particolare in basso vedete il foglio appunto accesso ai dati dove andavano riportati una serie di informazioni relative ad esempio a il l'URL del catalogo dei metadati a quello del metadato al tipo di servizio al la disponibilità di qualche data set verso il quale era stata avviata un'attività di mappatura verso il data model di Spire se appunto questi servizi sono scaricabili se diciamo ci sono le licenze d'uso e le data policy se è presente anche qualche data set armonizzato e la conformità di Spire eccetera sono questo in questo elenco sono appunto visualizzate le regioni e le province autonome che fin qui ci hanno inviato i dati e come hanno detto appunto i colleghi che mi hanno preceduto questi dati vengono continuamente aggiornati anche tenendo conto appunto delle difficoltà che tutti quanti diciamo nell'ultimo anno abbiamo avuto anche per lavorare appunto da remoto abbiamo esaminato appunto il foglio accesso ai dati associato per ogni provincia autonoma regione i dati che sono riportati e li abbiamo correlati anche con i temi Spire che afferiscono appunto ai tre ammessi per ogni una delle regioni quindi le scorro velocemente cominciamo dalla provincia autonoma di Bolzano abbiamo letto che ci sono appunto quarantacinque set di dati che afferiscono ai temi Spire di geologia e zona rischio naturale le informazioni diciamo quelle che sono riportate su questa scheda sono diciamo quelle che poi vedremo nelle sintesi diciamo finali come carattere come dato nazionale quindi le informazioni appunto che ci interessavano sono relative ai servizi a esempi di armonizzazione o la conformità con Spire scorrendo le diciamo i fogli quindi i dati delle varie regioni vediamo che quasi tutte hanno prodotto ovviamente set di dati che afferiscono appunto a questi temi Spire le vediamo velocemente perché poi successivamente i colleghi della regione toscana e provincia autonoma di Bolzano magari entreranno e ci racconteranno nel dettaglio quello che riguarda i loro dati in sintesi questo è quello che risulta ripeto sempre rispetto ai dati che ci sono pervenuti fin qui allora ad oggi a parte la di Venezia Giulia le Marche e l'Umbria quasi tutte le regioni che partecipano che hanno partecipato al tavolo fino a qui hanno un geoportale i servizi di consultazione i numeri che vedete sulle varie regioni in realtà potrebbero trarre in inganno perché sembrerebbe quasi che c'è una diciamo una disomogeneità molto forte rispetto a quello diciamo che che è il contenuto ma una disamina attenta del dei dataset ci ha consentito anche di capire perché ci sono queste grandi differenze sono legate probabilmente sia a come sono strutturate le regioni quindi anche all'organizzazione proprio degli uffici sia alle decisioni in capo anche a chi si occupa di queste di spacchettare magari in più e magari da altre parti è tutto diciamo è tenuto tutto insieme e probabilmente anche legato invece alla diciamo sicuramente alla disponibilità dei dati se prendiamo l'esempio della regione Lombardia esaminando l'elenco dei dataset riportati vediamo che ad esempio già per quanto riguarda i fogli CARG la Lombardia dispone di 14 fogli CARG dispone anche di carte geologiche di alcune province della regione quindi indubbiamente questo numero così differente non deve diciamo far pensare che c'è chi produce di più e chi produce di meno per quanto riguarda le licenze d'uso anche se sono con colori diversi quasi tutte le regioni hanno le licenze d'uso del tipo CCBI a parte appunto chi non ci ha ancora comunicato i dati come la Basilica della Puglia e l'Officio di Venezia Giulia che appunto ha specificato nel foglio che sono licenze d'uso open e il Veneto che invece ha specificato che appunto sono su richiesta ultima slide è relativa all'informazione che avevamo appunto richiesto sulla conformità di SPIRE qui sicuramente è sorta un'ambiguità probabilmente qualcuno ha interpretato questo dato come la disponibilità di metadati presenti sul catalogo o altri magari sulla disponibilità di servizi quindi indubbiamente non esce anche qui un'informazione un'infoca questo però ci può dare lo spunto per continuare a collaborare in maniera più efficace e anche più operativa da qui in avanti rispetto appunto a cercare di arrivare ad un dato che sia più uniforme e anche alla luce di quello che sta emergendo e di cui abbiamo parlato fino a qui e tra questi citerei ad esempio la prossima ufficialità del plugin di GeoNetwork per lo sviluppo di metadati e quindi diciamo concludo dicendo che vi invitiamo a mettere a fattore comune in realtà quello che abbiamo fatto fino adesso ma in potenziale elaborazione tra di noi in modo tale da venire a della diciamo un'uniformità anche rispetto alla tematica appunto accesso ai dati geologici io ho concluso grazie mille Valentina dunque visto che siamo comunque un pochino avanti se siete d'accordo io procederei con gli altri interventi rimandiamo le domande secondo me alla discussione finale quindi chiederei a Guido Lavori di Regione Toscana di condividere lo schermo per illustrarci quali sono le ultime novità relative all'attività della regione grazie Guido per questo intervento sì allora andiamo intanto di condividere lo schermo non ti sento senti ora no ti vedo chiaramente ma non ti sento io lo sento Maria Piazza l'audio l'ho acceso si sente l'audio l'ho acceso ora vuol vedere se riesco a condividere lo schermo grazie Guido perdonami sì avevo io l'audio disattivato perché quando parlano i colleghi altrimenti saremmo entrati in un'altra si vede lo schermo ora vediamo te ancora ho messo la presentazione io vedo la presentazione non so devi usare questo tasto verde condividere lo schermo sì l'hai usato ora io sul mio schermo ho la presentazione forse hai condiviso solo la finestra e non tutto lo schermo aspetta prova a riuscire a rientrare perché probabilmente puoi condividere anche direttamente tutto lo schermo così qualunque finestra tu veda viene catturata anche da zoom aspetta sì come devo fare questa termina la condizione ok ora adesso lo vediamo ottimo bene adesso sì perfetto grazie ancora Guido ok allora facciamo partire ok faccio una rapida carrellata delle principali banche dati geologiche geosematiche online non saranno tutte perché per motivi di tempo e anche perché alcune non gestite direttamente quella microzona che sono i sismi la gestisce il servizio sismio le ultime slide invece che sono quelle sulla sperimentazione le farò vedere io ma mi sostituirà al microfono cioè parlerà dalla manuela corongio dell'amma che meglio descriverà quell'ultima l'ultima parte quindi vado abbastanza velocemente in modo da cercare di rispettare i tempi le banche dati sono consultabili per la maggior parte dei casi dal geoscopio dove c'è un manuale d'uso poi per l'utilizzo da qui si può scaricare tutto ci sono anche servizi WMS per altri servizi non solo geologici tipo ortofoto dati catastali CTR eccetera ecco ho evidenziato qui i servizi WMS disponibili per banche dati geologici e geotematiche quindi ecco l'elenco completo è qui che sono una bella database geologico veloce morfologico pedologico l'archivio delle grotte e cartismo e la banca dati dei depositi superfici e suscettibilità da frana ora si guardano uno per uno velocemente questa è chiaramente la base di tutto cioè il database geologico regionale alla base sull'arte regionale geologica 10.000 ovviamente è interrogabile basta insomma cliccare su le informazioni e ogni poligono ci sono le informazioni sulla tipologia sulla litologia descrizione e quanto altro vabbè qui avevo fatto un piccolo filmino non piccolo per far vedere come funziona la navigazione ma insomma per motivi di tempo sorvoliamo idem per il database geomorfologico dove chiaramente ci sono invece le parti superficiali delle frane e le forme morfologiche funziona più o meno nello stesso modo il filmino fa vedere ovviamente come funziona ma sostanzialmente è sempre lo stesso modo il database pedologico invece chiaramente fa la descrizione dei suoli famiglie dei suoli eccetera anche questo è interrogabile prima si può interrogare l'unità di paesaggio descritto sulla base delle trivellate e poi appunto tutta la spiegazione originale date aratteristiche dei suoli e caratteristiche anche di tipo agronomico l'altra banca dati che ha un servizio WMS è quella di grotta e cassismo ottenuta dai dati forniti in collaborazione con la federazione speleologica toscana sono segnati i punti di accesso e varie descrizioni che ci sono fornite dagli speleologi e poi c'è la banca dati dei depositi superficiali e suscettibilità da frana è quella che distingue la parte superficiale come è un po' mostrato qui nel nel riquadrino ecco la parte che interessa a questa banca dati è quella dei superiori dei triti superficiali separati dal substrato quando questi non ancora mobilizzati e quindi non ancora frana ma suscettibili di movimento per caratteristiche esotecniche pendenza piuttosto che appunto poi sovrapposizione con dati fluviometrici poi questi ci sono WMS con la localizzazione geografia e la risorsa con download disponibile dati e questi sono quelli che riguardano i corpi idrici sotterranei mezzi forosi quelli e la carta ideologica 10.000 invece i regionali d'autori e poi c'è la banca dati mineraria ex remin e quella delle indagini genotematiche andando molto velocemente i CIS sono i corpi idrici sotterranei definiti da legge regionale sono 37 mezzi forosi e 28 in roccia alternando alternando andando avanti vabbè qui si vede cosa succede evidenziandone uno viene fuori chiaramente l'isobast del corpo idrico ricostruito sulla base dei livelli piezometrici dei pozzi e questa invece è la carta geologica regionale il shapefile se invece guardandola dal geoscopio si decide di fare il download di ogni singolo 10.000 con relativa leggenda per diciamo chi vuole andare a vedere la fonte storica dei dati ci sono anche i raster degli originali d'autore che sono quelli proprio manuali fatti dai rilevatori precedenti alla digitalizzazione alcuni sono molto affezionati diciamo ancora anche a questa versione poi c'è un archivio storia quello extremin delle antiche miniere dove c'è la scansione dei documenti originali che hanno un loro comunque interesse storico anche se si tratta ovviamente di miniere non più attive e l'ultima banca dati che ha servizio WMS quella delle indagini generosemate e praticamente estrapolando da tutte le indagini generosemate che vengano depositate ai nostri geni civili è stata fatta una banca dati di tutte le indagini svolte questa viene aggiornata regolarmente ogni indagine ha un suo simbolo quindi c'è un simbolo per i sondaggi per le penetrometrie per le indagini sismi piuttosto che geolettrie eccetera anche questo è ovviamente interrogabile ogni punto è interrogabile e viene c'è una scheda che descrive il tipo di indagine per esempio questa è una penetrometria c'è un pdf rimanda alla stratigrafia eccetera i geni civili hanno un servizio per cui i professionisti quando eseguono le indagini inseriscano che si chiama portus inseriscono i dati ecco poi invece ci sono dei delle banche dati in cui servizi vms sono però c'è sempre la disponibilità del down dro dei dati e sono la carta litotecnica la carta delle risorse minerare mianto naturale le rocce pietro naturalmente alle marmi micro paleontologia superficie banca d'arte sotto sulle risorse di geobasis una arrellata veloce l'artalito tecnica lo stato dell'arte è questo vengono fatte delle prove sui terreni per definire caratteristiche geomeccaniche attualmente le province coperte sono quelle illustrate attualmente stiamo facendo Firenze Prato e Siena e nel 2022-2023 completeremo le province di Livorno Fisse e Grossese questa invece è quella delle risorse minerarie che erano quelle storiche queste sono quelle più attuali dove sono scritte vari cunicoli e gallerie questa è una banca d'arte sull'amianto naturale delle rocce praticamente divide in classica le aree di affioramento delle serpentiniti per le note problematiche dei contenuti in amianto la banca d'arte di pietro naturalmente l'ermarmi riguarda sostanzialmente le afuane c'è una suddivisione dei marmi nelle varietà merceologiche e quindi serve per avere una situazione chiara delle varie zone dove ci sono le varie tipologie di marmi quando uno è interessato a vederne una piuttosto che l'altra la banca d'arte la micro paleontologia di superficie derivata chiaramente dalla geologia descrive per le varie formazioni i contenuti micro paleontologici di ogni formazione e infine sotto sulle risorse idea un censimento sostanzialmente dei pozzi deriva dagli archivi dei geni civili delle province delle stratigrafie dei pozzi ovviamente quelli oltre 30 metri dovrebbero essere anche da Ispra come è previsto alla normativa e ultimo the last but not the list il database geobasic è il database geochimico regionale che mette insieme con un sistema operativo proprio tutti i vari dati sui valori di fondo nei campioni di suolo di acqua e si può fare diciamo delle ricerche sulla base dell'elemento chimico cercato o sulla base della zona però riscorre velocemente comunque questo è diciamo l'importanza soprattutto appunto per i valori geochimici dei vari elementi e qui vabbè è interrogabile ci sono appunto delle elaborazioni esempi di elaborazioni che è possibile fare ecco ora qui è la parte della della sperimentazione di armonizzazione e integrazione e queste ultime slide le lascerei descrivere a Manuela Corongio dell'Amma che ovviamente collabora con la regione toscana su questi su queste tematiche alla quale ora se si riesce dovrei disattivare il microfono io attivarlo lei mi sentite ti sento aspetta devo disattivare il mio che non mi sa vediamo se ci riesco senza far sparire tutto tutto allora attivo io ok quindi vado buongiorno a tutti vi faccio solo una piccola panoramica di alcune sperimentazioni che è a latere di tutto il processo produttivo della pletora di archivi generati da da regione toscana diciamo abbiamo svolto negli anni a supporto e verso l'interoperabilità sono riportati sostanzialmente due esempi uno fa riferimento alle risultanze del progetto Life Imagine dove per l'appunto eravamo presenti sia noi come l'Amma che regione toscana che Isfra e per l'appunto infatti Carlo Cipolloni si ricorderà sicuramente questa esperienza c'era una fase di armonizzazione dei dati verso Inspire Seis e Copernicus e quindi la tecnologia insomma dell'epoca perché ormai è passato anche qualche anno non è molto dissimile da quella attuale nel caso specifico erano stati presi in considerazione i due scenari uno relativo al consumo di suolo e uno sulle frane e poi andare alla quindi il processo che è similare rispetto a quello che ci ha fatto vedere Maria Congi quindi con i processi di armonizzazione di Inspire con la matching table quindi prendere il nostro dataset rispetto al dataset previsto dallo schema di Inspire nello specifico per quanto riguarda le frane le abbiamo rimappate rispetto alle natural risk zone relativamente all'evento di ottobre 2011 sulla parte della lunigiana e dopodiché si è preso per l'appunto EIL adesso io non le ho riportate perché c'era comunque l'intervento di ISPRA che andava esattamente in quella direzione con EIL si è ritrasformato fisicamente il nostro dataset di origine della regione toscana che era in shape file e si è prodotto un GML conforme al tematismo di Inspire vai avanti un'altra sperimentazione recente sulla quale volevo puntare un po' l'attenzione ma per fare un po' anche la sintesi delle sperimentazioni e di armonizzazione verso Inspire riguarda il tema del suolo in quanto è quello più recente sul quale abbiamo operato e riguarda per l'appunto la difficoltà di prendere in considerazione un dataset strutturato in logica di database quindi con una certa complessità non organizzato in shape file ma proprio su un vero proprio database rimapparlo secondo lo schema soil di Inspire e poi metterlo a disposizione sia come servizio WMS che sulla piattaforma degli Open Data che in Toscana si chiama Open Toscana vai avanti sì ok stessa anche qui la rimappatura è stata fatta considerando il software AIL che allora si era quasi da pionieri e inserendo come database iniziale il database integrato già con alcuni identificazioni requirement che erano specifici della regione toscana e che non volevamo perdere rispetto a Inspire cosa vuol dire vuol dire che Inspire il tema del suolo è più semplificato rispetto in termini di contenuti rispetto a quello che abbiamo in regione toscana allora l'idea era o fare un'extension del soil di Inspire ma eravamo da piccoli sperimentatori quindi abbiamo integrato il database con le peculiarità di regione toscana rendendolo quanto più prossimo possibile rispetto rispetto allo schema Inspire e abbiamo fatto il remappo questo report di rimappatura oggetto per oggetto dal db della regione toscana al tematismo del soil di Inspire vai avanti e poi quindi alla fine cosa è successo si deve fisicamente scrivere delle specifiche che siano un riferimento nuovo a chi produce i dati della pedologia in regione toscana quindi come si è fatto vai avanti ed è proprio l'ultima slide oggetto per oggetto classe per classe si è data l'identificazione di quale fosse il campo del progresso e gli si è dato uno stereotipo di Inspire nel caso fosse un elemento congiunto tra Inspire e regione toscana alcuni attributi che avevano una determinata notazione derivavano dal progresso e alcuni dentro Inspire e quindi abbiamo prodotto diciamo anche una specifica in linguaggio umano per un database integrato conforme ad Inspire e che non perdesse nessuna delle informazioni preesistenti nel database di regione toscana ho finito insomma dicendo che rispetto a queste ci sono state altre iniziative vorrei segnalare la difficoltà di portare ad armonizzazione rispetto a Inspire o rispetto a Gioshimla archivi che sono di natura complessa e poi archivi che hanno un progresso importante per cui è difficile anche cambiare la catena operativa e doverlo fare per esporre in rete i dati già armonizzati non è cosa semplice anzi è piuttosto complessa ed è tanto più difficile quanto più uno ha un mente al pregresso da dover trasportare e cambiare non solo una tantum ma anche come catena operativa grazie io vi ringrazio tantissimo per questo intervento perché immagino anche la difficoltà perché siamo tutti presentati tantissime attività però vi ringrazio tantissimo perché di fatto insomma apre ecco uno spunto di discussione anche su quello che è stato fatto nelle regioni rispetto all'armonizzazione proprio del dato e che sicuramente diciamo avremo noi piacere di discutere in maniera più approfondita per scegliere magari in maniera più opportuna anche fare delle scelte comuni quello che diceva prima Emanuela Corongiu che ecco i nostri dataset sono sempre estremamente tanto tanto ricchi di informazione quindi dobbiamo non solo diciamo agire sugli schemi per poi diciamo produrre un dato con forma espire però in realtà ecco anche valutare quello che nel frattempo viene modificato oppure viene tralasciato sostanzialmente anche questa è una criticità vi ringrazio molto e spero di riprendere quanto prima insomma questo discorso negli incontri che programmeremo tutti insieme grazie quindi siamo un pochino in ritardo e lascio l'ultimo intervento a Silvia Tagnin che ringrazio ancora per aver partecipato grazie buongiorno buongiorno sono Tagnin Silvia dell'ufficio geologia e brave materiali della provincia autonoma di Bolzano questo intervento lo farò congiuntamente a Claudia strada che farà l'ultima parte allora io sono geologa mi occupo da anni però di gestione dei dati adesso condivido il mio schermo non parleremo nella nostra presentazione di Inspire ma parleremo di un'esperienza che stiamo facendo in questo momento rispetto a una banca dati e che ci pareva particolarmente interessante proprio per quello che si diceva che diceva anche Luca Guerrieri nel suo primo intervento e cioè per una questione di omogeneizzazione degli archivi e di condivisione anche degli archivi allora parleremo in particolare come vedete dal titolo della presentazione della gestione IFI della provincia autonoma di Bolzano allora tutto nasce quando abbiamo scoperto che abbiamo scoperto abbiamo saputo che ISPRA il gruppo Trigilaia Danza in collaborazione con la ditta Shamblab avevano hanno preso in considerazione hanno intrapreso la strada per sviluppare una nuova piattaforma nazionale per la gestione del dato IFI questa a noi è sembrata un'opportunità fantastica anche perché anche per per poter pensare a un rifacimento della nostra infrastruttura perché la nostra infrastruttura di gestione del dato IFI era assolutamente vetusta si basava su una banca dati Oracle e forms assolutamente da rifare e quando appunto avviamo possibilità ci si sono aperti diversi scenari possibili il primo era quello di sviluppare una piattaforma parallela della pub magari utilizzando anche in riuso parti della piattaforma ISFRA che comunicasse poi attraverso servizi automatici con la piattaforma idrogeo questa era l'ipotesi iniziale più probabile la seconda invece era quella di agganciarsi parzialmente alla piattaforma idrogeo e mantenere una parte dell'infrastruttura in locale e la parte che avremmo pensato di utilizzare è la parte di front office proprio perché il progetto IFI è un progetto nazionale e quindi ci siamo posti il problema di avere poi magari portali diversi per l'inserimento dello stesso dato a seconda della posizione in cui si era della regione o provincia in cui si era la terza ipotesi invece era quella di usufruire al 100% della piattaforma idrogeo qual prendere per decidere che sta da intraprendere abbiamo fatto un'analisi della piattaforma idrogeo e come detto abbiamo un front office dove viene fatto il data entry anche che è un front office web e permette anche l'utilizzo su dispositivi mobile questa è una parte estremamente interessante che avremmo sviluppato anche nella nostra piattaforma eventuale e che permette sia ai tecnici dell'ufficio del nostro ufficio e sia ai tecnici abilitati dalla pub che siano liberi professionisti o tecnici di altri uffici della pubblica amministrazione di inserire direttamente i dati in campagna e anche di visualizzarli ovviamente questa possibilità ci permette poi di ridurre sia i tempi di gestione del data entry sia anche ridurre l'introduzione di errori di comunicazione e questi ovviamente questi gli accessi a questi a questa a questo front office sono inserimenti legati a un utente e una password all'interno della piattaforma idrogeo e questo ovviamente per noi è molto importante perché l'informazione in entrata deve essere comunque un'informazione che viene da un tecnico abilitato dalla provincia la seconda grossa parte molto importante parte fondamentale di questa infrastruttura è la validazione cioè all'interno della piattaforma idrogeo è prevista la validazione del dato che è stato inserito e ovviamente questo permette di avere un controllo costante su quale dato entra in banca dati il tutto poi viene storato in un repository idrogeo abbiamo visto che il repository comunica con l'ambiente esterno con diversi tipi di servizi e permette praticamente un export quasi completo delle informazioni quello che noi abbiamo previsto di sviluppare faccio un regresso ne stiamo migrando in questo momento per cui tante di queste cose che vedete sono ancora ancora da realizzare però sono comunque in previsione abbiamo previsto un dump cioè un download massivo del dato per avere una copia di sicurezza della banca dati presso il nostro ufficio proprio per questioni di emergenza abbiamo previsto dei servizi API che ci permetteranno di importare dati da una banca dati che si chiama banca dati edi 30 che non è di competenza del nostro ufficio ma è di competenza dell'ufficio bacini montani e nella quale vengono storati i dati sulle colate in alveo e abbiamo poi previsto servizi geoserver UFS WMS e Mapfish per la comunicazione con il nostro web GIS perché il dato verrà abbiamo deciso di lasciare il dato all'interno del repository unico idrogeo e abbiamo visto che quei servizi però possiamo avere quello che avremmo avuto anche qua da noi con una banca dati in locale e cioè tutto quello che serve per pubblicare anche sul nostro web GIS l'informazione quindi diciamo che alla luce di questa prima analisi la piattaforma idrogeo abbiamo visto che la piattaforma idrogeo copriva gran parte delle nostre esigenze dalla storia di città del dato al bilinguismo addirittura alla condivisione dei dati e oltre a questo ci permetteva anche di ci permetteva di mantenere sia un'autonomia nella gestione del dato e anche un controllo un buon controllo sul dato e questi erano tutti i requisiti che noi avevamo posto all'inizio per poter poi utilizzare eventualmente la piattaforma al 100% abbiamo visto appunto che i servizi permettono l'esportazione di qualsiasi oggetto contenuto nella banca dati dai documenti e dalle foto quindi da tutta la parte documentale e di media e l'export di tutti i dati alfanumerici sia in formato dump sia con delle API sia l'esportazione di tutti i dati geografici da Shape a GeoJSON a VFS VMS GeoServer quindi e questa questa funzionalità in particolare ci permette di avere esattamente gli stessi dati pubblicati sia sulla piattaforma WebGIS di Ispra che sulla nostra piattaforma locale WebGIS e questo non è un'informazione da poco nel senso che gli utenti io mi chiedo gli utenti esterni cosa capiscano quando vedono un'informazione sullo stesso progetto diversa tra il portale nazionale e il portale locale in questo modo il problema viene risolto alla radice così come in questo modo ci togliamo anche una grande fetta di lavoro che era quella dell'export dei nostri dati verso Ispra che veniva fatto ogni due tre anni a seconda e comunque era un lavoro abbastanza impegnativo e inutile posso dire alla luce dei nuovi strumenti che ci sono è anche un lavoro che è diventato anche un po' obsoleto e inoltre il fatto di avere tutto centralizzato nella piattaforma idrogeo ci toglie anche i piedi ci cava i piedi anche dal dover implementare dei servizi di sincronizzazione tra una banca dati nostra di Ispra che vanno comunque tenuti sotto controllo perché i servizi possono in ogni momento saltare diciamo non è tutto oro quello che luccica perché come sempre qualcosa saltava nel senso alcune funzionalità non erano comprese all'interno della banca dati idrogeo ma con piccoli finanziamenti del nostro ufficio o due piccoli finanziamenti uno diretto del nostro ufficio e uno un incarico dato da un progetto interreg che si chiama Rico communication strategis abbiamo richiesto l'implementazione di alcune funzionalità che per noi erano strategiche abbiamo integrato le basi cartografiche nostre locali che in alcuni casi sono più dettagliate e sono quelle che i nostri tecnici sono abituati ad usare sul territorio abbiamo richiesto che nella funzionalità di print che già esiste nella piattaforma idrogeo venisse inserito anche il nostro logo e che questa funzionalità print pdf venisse potesse essere che il pdf potesse essere richiamato attraverso una funzionalità mapfish anche direttamente dal nostro dal nostro sito webciss in modo che gli utenti possano usare indifferentemente la piattaforma idrogeo o la piattaforma di visualizzazione idrogeo oppure se sono più comodi la nostra piattaforma webgis dove magari trovano dati locali che a loro servono e la terza last but not least è l'upload massivo delle geometrie ma anche per noi è un tema fondamentale perché spesso gli utenti da noi sono abituati ad utilizzare dei GIS locali per implementare le proprie geometrie e una volta che poi le schede sono inserite fanno un upload massivo delle geometrie questa funzionalità non era prevista all'interno della piattaforma idrogeo però noi abbiamo pagato questa implementazione quello che risulta da tutto questo è che secondo me è molto interessante perché abbiamo un progetto nazionale in questo momento prossimamente tra poche settimane l'unico punto di accesso per l'utente sarà questa piattaforma condivisa idrogeo quindi i vantaggi appunto sono questo unico punto di accesso per gli utenti che porta una grande semplificazione sia per noi che per loro di comprensione di scambio dati è un unico punto di conservazione dell'informazione quindi abbiamo sempre dati allineati tra i portali locali e portali nazionali e non c'è nessuna copia di dati che potrebbe appunto non essere allineata non c'è nessuna perte di identità o di competenza sul dato e dopo vedremo anche perché e come e importantissimo è anche che tutto questo fa capo a un unico investimento un grosso investimento fatto da Ispra investimenti satellite fatti da noi per implementare quelle che sono le piccole esigenze nostre esigenze che potrebbero essere comuni ad altre regioni province e che quindi in un futuro potrebbero essere condivise e finanziate cofinanziate inoltre tutto questo ovviamente per noi è risultato anche in un risparmio di tempo e di energie grosse diciamo che da un punto di vista tecnico è tutto possibile siamo riusciti a trovare siamo partiti da un prodotto già molto buono e abbiamo implementato quel poco che lo rendeva per noi perfetto tagliato proprio sulla nostra esigenza rimangono comunque delle criticità che sono legate più che altro alla comunicazione e alla definizione chiara dei ruoli e delle competenze su questo punto e sul punto quattro dei vantaggi lascerei la parola a Claudia che fa un piccolo approfondimento su questi due argomenti intanto vi ringrazio per l'attenzione grazie a te Silvia poi ci sono delle domande le facciamo alla fine certo Claudia ci sei? scusate parlavo ad audio spento allora sì cominciamo a preoccuparmi ho detto non arrivo no sono responsabile di progetto IFI per la provincia di Bolzano sono Claudia strada alcuni già mi conoscono adesso se Silvia mi fa vedere la terza slide prima volevo raccontarvi un po' perché poi ho accettato la proposta di Silvia di partire e di provare a fare questo progetto condiviso con Ispra la ragione fondamentale è stata quella che mi daruppa anche di progetti edilizi cioè non solo di progetti scientifici è quella che bisogna sempre fare una fattibilità economica per qualsiasi cosa noi andiamo a qualsiasi investimento noi vogliamo fare e in questo caso la fattibilità economica di questa unione delle nostre forze diventava un vantaggio soprattutto se pensavo a dover sviluppare come doveva essere un nuovo applicativo perché ormai era diventato vetusto nostro all'interno del nostro sistema quindi in questi vantaggi nel fatto di condividere un applicativo già esistente non c'era solo il vantaggio comunque di una spesa ridotta iniziale rispetto alla spesa totale la spesa che avrei fatto a rifare tutto l'applicativo ma anche in previsione di spese di manutenzione nel nostro applicativo precedente fatto dopo l'uscita di IFI dopo il 2000 abbiamo più volte dovuto ricorrere a manutenzioni sia ordinarie che straordinarie per disfunzionamenti ma di nuovi sistemi eccetera quindi il risultato è che le cose di manutenzione per quel che riguarda l'informatica diventano anche superiori al costo stesso dell'investimento iniziale di conseguenza la possibilità di poterli condividere con un'altra con ISPRA è tutto vantaggio sia nostro che dello Stato perché effettivamente sono soldi pubblici e quindi una doppia spesa andrebbe ad essere anche un doppio investimento del cittadino il fatto che i costi di manutenzione siano molto importanti non lo pensiamo solo noi è sempre più evidente anche nella nostra in tutti i settori dell'amministrazione pubblica ho trovato che per quel che riguarda altri servizi che penso che questo sia più o meno quello i costi di manutenzione dovrebbero essere smaltiti dovrebbero essere anche calcolati sui 10 15 anni che è più o meno quello che è successo che è stato il tempo di vita del nostro precedente applicativo quindi nel momento in cui uno va a fare un investimento che sia fare un nuovo applicativo o decidere di utilizzare un applicativo già gestente comunque questi costi sui 10 15 anni vanno un attimo valutati e anche pensato se è sostenibile da parte dell'ente avere questo tipo di costi come poi si è sviluppato veramente torniamo indietro alle altre due slide la nostra esatto la prima esatto è stato il nostro collegamento con Ispra tramite la convenzione che siamo finalmente riusciti a stipulare a novembre e dove sono ben determinati due aspetti il primo è quello dei compiti e gli obblighi delle parti tra noi e Ispra quindi il coordinamento della banca dati idrogeo rimane ad Ispra mentre la proprietà dei dati in questo caso è di entrambe le parti ma secondo me non era neanche troppo a definire perché la proprietà dei dati in questo caso è del cittadino stessa cosa che ai fini della ricerca entrambe le parti potevano utilizzare i dati ma chiunque può utilizzare questi dati è ben segnato che il fatto della collaborazione è un pregnante interesse pubblico di fatti la raccolta dei dati spetta a noi così come anche poi l'utilizzo per il fatto di fare quello che a livello italiano vengono definiti piani di assetto idrogeologico che da noi sono la pianificazione del pericolo in quanto noi siamo una provincia autonoma a cui sono state date anche le competenze dell'autorità di bacino andiamo col secondo punto fondamentale della convenzione che sono i ruoli che ispra e pub e altre eserci dell'applicativo a livello nostro abbiamo detto che volevamo definire quindi è stata un'altra cosa che abbiamo implementato volevamo noi stessi autorizzare chi entrava all'interno dell'applicativo definendo i vari ruoli per le varie persone abbiamo praticamente come inseritori noi stessi quando andiamo a fare gli interventi di reperibilità geologica o altri geologi liberi professionisti che noi stessi incarichiamo o anche i comuni abbiamo le geometrie multiple di cui parlava Silvia che derivano dai piani di pericolo comunale per cui sono che sono praticamente piani di assetto idrogeologico abbiamo l'inserimento in caso di ricerche universitarie da noi sponsorizzate sul territorio e anche in questo caso era necessario poter rinserire un progetto già fatto tutto insieme quindi attraverso l'inserimento multiplo e poi abbiamo le segnalazioni le segnalazioni invece non potranno essere fatte da chiunque che si registra ma solo da chi da noi è autorizzato che saranno i forestali la bacina in montagna il soccorso alpino le guide alpine e le guide alpine le guide di mezza montagna il CAI e la VOS il CAI locale per questo stiamo già procedendo a programmare dei corsi una sperimentazione durante l'estate e poi dei corsi per le persone che ci aiuteranno a implementare i FI sul territorio questa cosa il fatto di poterlo fare via web poter fare una segnalazione praticamente ci risolve quello che per noi era un po' il problema di avere anche delle segnalazioni fuori dalla zona urbanizzata perché per ora noi ci limitavamo alla zona urbanizzata in quanto era l'ambito in cui la protezione civile la pianificazione urbanistica il valodatore iniziale saranno i tecnici della pub o che siano del nostro servizio geologico per quel che riguarda i fenomeni in alveo la nostra bacini montani che sarebbe l'autorità di bacino e ci sarà un ulteriore controllo di sicurezza cioè una validazione finale di ispra che servirà più che altro a darci se ci è scappato qualcosa magari ci faranno sapere poi vediamo se questo controllo incrociato è utile non è utile dannoso per quello che si parlava di una buona comunicazione la buona comunicazione è quella di cercare un attimo di segnalare solo quello che effettivamente sono disattenzioni che possono comunque sempre capitare dal punto di vista quando si va a fare un'analisi di questo genere per questo con un po' di ritardo anche noi possiamo concludere siamo qua a disposizione per le domande anche Silvia soprattutto Silvia perché ha seguito la parte tecnica grazie infinita di entrambe questo intervento è stato veramente come dire importante anche per comprendere quali sono gli esempi virtuosi insomma di operatività lavorativa da condividere chiedeva alla regione Emilia Romagna anche il Piemonte per l'upload massivo delle geometrie come vi siete organizzati Silvia vuoi far vedere le slide di Daniel vuoi che condivido le slide che ha preparato Daniel sì fai tu aspetta le apro praticamente comunque intanto le vado a prendere poi mi ha dato se l'implementazione è disponibile anche per altre regioni sì ecco quello che volevo dire io è che queste implementazioni sono disponibili anche per le altre regioni e anche quel paio di giornate che adesso andremo a finanziare per poter praticamente legare i temi di fondo all'utente quindi all'utente che ha una valenza regionale o provinciale è una cosa che poi verrà utilizzata da tutte le altre regioni ed è abbastanza utile perché non possiamo avere una lista di tutti i fino alla Sicilia quando andiamo ad implementare a fare un'implementazione online è molto utile ad esempio avere lì il shade adesso io aspetta che arrivo ci arrivo eh Silvia perché due cose parlare e cosa faccio una fatica pazzesca eccoci qua ecco condividi eccoci la funzionalità di import massivo allora la piattaforma idrogeo vincola l'inserimento del punto perché è un dato richiesto per l'inserimento della scheda quindi il punto deve essere inserito inizialmente in modo singolo dopodiché le altre geometrie possono essere aggiunte in modo massivo quindi si prepara noi abbiamo richiesto che si potesse inserire uno shape e che questo shape potesse essere caricato dalla da questa funzionalità carica geometrie e ehm in questa come potete vedere in questa eh funzionalità si possono ricaricare anche i punti questo permette anche eventualmente di eh posizionare in un secondo momento il punto in modo più preciso e poi eh riemportarlo in con un'importazione massiva e avere quindi anche quell'informazione più corretta e più precisa questo nel caso in cui magari la scheda venga inserita in campagna poi dopo con con l'analisi d'ufficio venga rilevato che magari il punto vada un attimino riposizionato questo tipo di import massivo come detto può essere utilizzato anche da altre regioni e province appunto questo il grande punto di forza eh pagato da noi però comunque reuso per tutti e l'import massivo prevede anche un controllo topologico e qua sotto vedete i vari tipi di errori che vengono rilevati in fase di import in modo che comunque anche la geometria quando viene importata eh venga verificata a priori su alcune per alcune questioni ecco questo è tutto non so se Claudia hai ad aggiungere sì no l'unica cosa se forse ma penso che abbiano capito è che comunque eh l'evento singolo non si può importare una parte di banca dati ma bisogna inserire i dati alfanumerici all'interno dell'applicativo e poi eh facendo un punto e dopo in caso che questi punti invece siano stati fatti anche non in maniera corretta giusto per iniziare a mettere i dati si può importare tutta quanta la geometria che può derivare da una pianificazione territoriale da un progetto da qualcosa però la parte alfanumerica deve essere inserita all'interno dell'applicativo web erano nella chat se si può fare caricamento anche attraverso sì le API sono previste tutte vanno ovviamente sviluppate a seconda dell'esigenza noi ne utilizziamo intanto una per l'import dei dati dalle D30 come ho fatto vedere prima nella presentazione e invece in scarico abbiamo per ora pensiamo di utilizzare non un API ma il dump massivo della banca dati però non è escluso che in futuro invece penseremo a un API e dobbiamo ancora anche noi capire che cosa come gestiremo poi il dato locale che sarà soltanto in visualizzazione e soltanto ottenuto per emergenza per la gestione delle emergenze e quindi abbiamo ancora è una questione che capiremo meglio nei prossimi mesi adesso siamo concentrati sull'import dell'intera nostra banca dati nella banca dati idrogeo perfetto grazie praticamente noi abbiamo i dati circolati detritiche che sono all'interno di una banca dati appena fatta e questi verranno integrati tramite API sì la famosa di 30 di cui ho parlato nella slide io vi ringrazio molto sia ringrazio sia Silvia Tagninna che Claudia Strada grazie non vedo più domande qui nella chat quindi diciamo che forse potremmo concludere questa giornata di workshop che insomma spero sia stata interessante per tutti quanti non appena avremo i dettagli della registrazione ve li invieremo e ci ovviamente ci rivedremo presto per continuare le nostre attività con questo concludo e invio un caro saluto a tutti a presto grazie ancora a tutti per la partecipazione grazie ciao ciao grazie ciao grazie a tutti e le risposte vostre grazie a tutti